Non è partito, io ancora non vedo niente Chiudi e riapri al massimo Aspetta, però c'è stato zero spettatori D'assi che sia andato adesso, vediamo un attimo Aspetta un attimo, vedo che c'è la Dash Che ha attivato gli spettatori No, vedo offline, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Che adesso ammazzo qualcuno Ecco che è partita C'è brutto un po' Perché, orca miseria, eccola qui Aspetta che metto a posto l'audio Mamma mia, sento delle roba spaventose Ragazzi, vi ho detto, basate un po' L'audio vostro del party, così non c'è l'eco Arriva, arriva Aspetta, allora Oddio, mi sto sentendo Scusate Ci sono state le instacate off screen Ok, ho abbassato un po' il livello Oh, tu devi stare zitto Devi stare zitto Se ti capita che È come se vieni sgridato E vuoi far sapere a tutti che sei stato sgridato Quindi la gente vuole sapere il perché E io devo dire il perché E fai figura di merda continua Vabbè, ok Ok, va No, 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 no Non si racconta ora No, no, no Oh, per l'ennesima Per l'ennesima Zitto Adesso si sta zitto adesso Poi dopo parli Per l'ennesima volta Per l'ennesima volta Sempre Ogni volta che c'è bollo A streamare Sempre il Il pre-streaming Sempre ogni volta la giornata È una merda Per evitare problemi Ci siamo scritti All'ora di pranzo circa Con lui che mi scrive Benjamin Rocket E gli dico Si può fare oggi o domani Dici di te Ho detto Domani non ci sono Facciamolo stasera E io Ok E mi arriva 20 minuti 30 ore Prima della streaming Con scritto Ma allora Quando è che si fa Rocket Con Rio Che ride Come state sentite adesso Diceva No ma c'è anche il gioco Di aggiornare C'è l'aggiornamento anche Io diciamo Non l'ha fatto Allora se non aveva la fibra Chissà come sarebbe finita Io pure non lo devo insultare Ma sempre Ma sempre così succede Il valium Mi consiglio Guardare Telegramo un attimo Mamma Oh mio Dio Oh mio Dio Ho già capito Anche se Ho lasciato un po' di cosi Ho lasciato un po' di cosi E' proprio come la volevo Ragazzi Dopo su Facebook Controllate una robina Che arriverà Che è normale Non male Tanto l'ho Grande bolle E' proprio grande Guarda Potrei fare Una Soltanto una streaming Di pre streaming Di merda Ma il cari di te Stranamente Che c'è Succedono sempre Gli aggiornamenti Sempre le volte Che dobbiamo stare Mario Rocket Assurdo No La cosa da dire Che ogni volta Che ci sei te Non capisci ma la mazza Tutti capiscono Dico Rio c'è stata la Rocket Ok E si fa trovare Ma non dovrei manco dirlo Perché è normale la faccenda Comunque Nicola Il canale di Telegram Dobbiamo farlo Dobbiamo farlo Perché ti ho detto Ci deve essere uno pubblico E uno privato Quello privato In realtà c'è già Però non è attivo Poi volevo fare anche qualche cosina Con gli sticker Un pochino più divertente Volevamo farlo bene Quindi ci vuole un po' di Di tempo Ma tanto appena lo creiamo Lo postiamo su Facebook Per cui sarete primi a saperlo Non c'è problema Piano piano È un complotto questo genere Infatti non è un complotto Il complotto è avere bolle Perché è una cosa normale La persona che dice Ci vediamo stasera a giocare Si connette contro gli aggiornamenti Come si fa a tutti Perché bolle è l'unico Che ha questo problema Pensateci un attimo Perché lui è l'unico Che ha questo problema ogni volta Ah non lo so io Ci sarà porco demonio Devo prendere la ricarica Se si scarica il pad E poi sbrocco È arrivato anche Dani Dani grandissimo Ci seguirà anche qui Sul rocket Mannaggia A causa di inattività Alcuni gradatori Sono scadute Ma sai quanto me ne sbatte Di questa cosa Allora ragazzi Questa è la sfida di oggi Quanti minuti serviranno Per perdere il diamante Quanti minuti Cinque La prima partita La prima partita Dice Io non ricordo a che divisione sono Ricordiamoci Bisogna scendere di divisione Ma Dai È anche una bella mappa Poi la prima Prima anche Una bella mappa Scusita Sì La prima anche È proprio la mappa Un commento su Big Boss Ho fatto anche Ma cosa c'entra Vorrei potermi andare Se mi fai Se mi fai anche un solo FK oggi Ti arrivano Ti arrivano Dei trambate nel viso Nemmeno veramente Cioè Qualcosa Vai Tira Oh mamma Ricordate che sono più forti questi Perché purtroppo Qualcuno Qualcuno Purtroppo Ha giocato per sbaglio Da solo Senza Senza La triade folle Quindi Sai cos'è L'aggiornamento Benji Hanno rimesso Tokyo Hanno rimesso Eh ma forse L'hanno messa migliorata Forse Boh che cosa fai Sopra il muro Cosa fai Sopra il muro Fai il lavavetri Fai Sopra il muro Madonna santa E' andato anche Polo Io ero giù Però sta lagando un po' No ancora sta lagge Ma fa No dai Veramente ragazzi Non è che Boh ogni volta Non puoi ogni volta Sare sempre la solita puttata Da dire Sta lagge del cavolo Sei fibrato Sei Mannaggia a te La lagge Sono Vi andato a dire lagge Oggi Io te lo dico Attenzione Benji Benji Intenzione Incredibile Vai Oh Boh ovviamente Sempre messo a Eh si Ieri Nicola Mi ha instigato A invadere Paul L'altro follower L'altro follower Attenzione Paul è stato invaso Incredibile È stato invaso Però è invaso male Perché c'ha Io scommetto Che se portassi In streaming Qualsiasi Qualsiasi persona Dei nostri follower Sanno praticamente Già come giocare Al posto di bo Che mi voltano in sacco È stato invaso dove Su Dark Souls 3 Eh vabbè Ball ma Ball ma Ma il lobotomia Non l'hai prenotata Ancora La cosa del lobotomia Ma che cazzo Che la data Oh merda Poi me l'ho letta lì Cioè guarda Con passaggio Ma poi quella tortura Quella è una tortura Perché io Non potevo più toglierla Ma poi Questa è una tortura Poi anche Che merda Che merda Che merda Che merda Ciao Madonna Santa La prima Perfetta Come partita Direi Pronto Per perdere Il rank Bravo Ma proprio frustrante Mi fai schifo Proprio Devo prenderti la mano Ma che cazzo Prendi la mano Ma è meglio che la perdi La mano Bravo Bravo Ma che cazzo Ma è meglio che la perde Così c'è la scusa Guarda Non posso giocare Perché non ho più un braccio E si esulta Togli la mano bionica Alla snake Mettiti Mamma mia ragazzi Ma almeno snake ci sapeva farla con la mano bionica Toglila Rio Toglila No Cacchio Io l'altra volta Io l'altra volta Non l'avevo detto Non voglio più giocare Guarda lì Boh che fa La si ferma Fa il passaggio al livello Cos'è Qui ride Ma cosa dite Non è da fidere Mamma mia Dai Sono solo due golli Possiamo riportare Due golli In effetti si può fare Non solo scaldarci Boh Basta che io Basta che non fa danni Quello schifoso lì No Rio Guardami davanti qua Eh lo so Ma io ho appena arrivato In posizione È appena tornato dalla crociera È appena tornato Io non potevo prenderlo È appena tornato No questa non era difficile A prendere Io ti devi Dai forse a Dio Non mi Non mi devi deludere Almeno tu Dai Tu non sono l'unica Guarda che non è andato Guarda che non è andato Io perché Io mi spiego Ma perché mi devo incavolare Non ha senso Ci sta pure credendo Almeno il mio me lo so recuperato Oh via Ma Rio Ma fa tutto una merda qua Rio ha detto L'unica speranza Bol sei Bol sei una merda Completa Sai Sai quando lo dice Guarda quello lì È un giocatore completo Se la cava un po' in tutto È affidabile Bol è una merda completa Proprio Merda totale Proprio Da sputare nel viso Veramente Di Rio togliermi Mi raccomando Bravo Io purtroppo Ho sempre uno boost Mamma mia Allora vediamo se si riesce a fare qualcosa Tipo questo Oddio Bol fai schifo Proprio Fai schifo Proprio Non ci sono altri aggettivi Proprio È qualcosa di tossico Proprio Tipo tossicità Fatto un bel gol Questa Ma che cacchio fai? Sono preso che sei Lontano un chilometro Non potevo fare niente Non potevo fare nulla Fatto un tiro È impossibile Da fare niente Ciao Tariele Benvenuto Tariele Il lesibitino è arrivato Incredibile Che schifo Ma questa macchina Non fa la colazione Io non spiego niente Io mi rifiuto Di dire le cose Io non so neanche Di cosa sta parlando È quello Va bene Rio stai dicendo Due gol Stai dicendo Di una perla rara Di un video È fuori lì Tranquillo Tranquillo Può anche prenderla con calma Va bene Si concentrasse sul gioco Ma tanto non è importante Ma è rubata Vaffanculo Guarda Cioè quando Prende il pallone Proprio quando non dovrebbe Porca puttana Quella schifosa La zebra La storica La schifosa Siamo solo la prima Mi fa il cavolare Mi fa Velo male che ha segnato Perché non piglia mai il pallone Lo prende Solo quando Me la deve rubare a me Questa macchina Non fa la connessione La colazione Ricorda di capire questo C'è una pronotazione Però non lo buto mia Prima si deve allenare Prima di fare Deve un po' allenarsi Per il momento In cui non avrà più un cervello Quindi Sta allenando E poi spara un po' Le frasi Sai le frasi a casa Tipo i zombie Che sparano Tipo le frasi È un bellissimo È un bellissimo video Dei griffin Dove peter compra la macchina Per fare la colazione Adesso non lo spieghi Magari Però Sempre roba sui griffin Poi Tira Mamma mia ragazzi Quale è il griffin State voi Voi Siete ormai Tira Porta vuota Oh no Voi immaginate Però era di No Io ho visto due pali Di due persone diverse È stato No Io l'ho messo apposta Sul palo Perché non c'è nient'altro Da fare in quel caso Il problema è che Bravo Il problema è che C'era un altro A porta vuota A due centimetri L'ha messa sul palo Ma io penso Nemmeno Ma nemmeno I Wumpra Fra poco Forza Forza Sono bravi col palo Sui calcetti Sui calcetti Cioè che Benji Ha giocato con un Nick Mamma mia Speriamo che non si sia Connesso adesso Non si vince Ma non si vince Poi è bello che Questi qua erano pure scarsi Pure scarsi sono Incredibilmente Non erano tanto forti Sti qui Non ho fatto un po' di Quella a culo Tira Tira Che cacchio ci fa No non ci si fa Ci si fa però Cioè il problema è Ma prima Ma non c'entra nulla Ragazzi Ma si è la prima No Rio Te è bravo Rio Ma Bull È una merda Niente Io cacca Io cacca Io cacca Di giocare a calcetti Con un Nick Che però aveva le scarpe Questo Io cacca Io cacca E no ma già De ranca Che ammene Sono tornato ad Argento Vabbè Vabbè Quanto è durato Quanto è durato Ti ho detto che Dureva cinque minuti Te l'ho detto io Non potrebbe durare di più Basta Io sono già stanco No no basta Vuoi già passare a persona No sto sentendo male Voi non ci credi Guarda Dai adesso Avevo appena iniziato Ci sono tante Opportunità per recuperare Mamma mia Ho visto una merda totale Ho visto Mamma mia Non ho parole Ancora sta mappa Ma bene sai Ma ci godo Ma ci godo Sai che è questa mappa Mamma mia Guarda sto male Mappa di merda Io ti giuro Io ho dei sogni In cui prendo tipo Un frustino Gli spacco le gambe a borma Tipo di brutto Sai quando uno soffre Proprio E uno sta male Proprio È bello Ma io faccio tipo Fallò 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 Posso solo sperare Dai che entra No 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 non entrare Perché devi entrare Con i miei tiri Non devi No 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 È giusto così Benji non deve Non deve mai gioire Assolutamente Però questa te la prendo No 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 È giusto È giusto così Benji Questo gioco È destinato a soffrire Per sempre Guarda guarda Questo come lo frego Alla grande Però è arrivato All'altro dietro Non cambia idea La ragazzi La mazzop Oh merda Tranquillo Ci sono io il primo palo Cioè come ha fatto Arrivare lì la palla Non si sa Fatto un casino Fatto un ripasso Buttira Madonna Cittana Troia mi ruba anche il nos La miseria Sai quelle zop Maremba Che non c'hanno più le gambe È perché se non vengi Sarebbe troppo facile Gli zingari È praticamente L'equilibrio Della difficoltà L'equilibrio Della forza Sì L'ho vista L'ho vista L'ho vista In live È stato emozionante Io non ho nos No Le legne nel culo Ahia Le legne nel culo Sono anche poche Lascia Arrivare tranquillo Ok Vai Ha fatto anche un bel passaggio Quello Minchia A me me le faranno bene Non sono Sono più forti questi Sono più forti questi Che quelli di prima Guarda Non sto scherzando Deve prendere il pallone Dove cazzo vai Saranno andando in porta Che c'è Gerry in porta C'hai veramente Le tattiche Oh mamma Oh mamma Oh mamma Attenzione Attenzione È 1 a 0 Intanto Oggi è fissato con i dadi Dai che si recupera Fatto un gol Incredibilmente Calibrato Guarda Il colpo Buco d'angolo Palla 8 Buco d'angolo Incredibile Bella Oh questa è un po' di fortuna Via Oh è finalmente Finalmente Poi lo devo chiamare fortuna Non Io lo chiamo buon addestramento Tranquillo La scena dove c'è Dove c'è Pinocchio Ma ha tirato una stecca Ma non male che gli ha Non male che gli ha tolto a compagno Pinocchio Che si fa Di Non mi ricordo più Ma perché devi raccontare Le scene dei Griffin Perché No non c'entra niente No è la scena del cartone di Pinocchio Che si Il cartone di Pinocchio Ho capito Ho capito Il cartone di Pinocchio Il cartone di certo tipo Che invece di allungare Eh Lo lascivamo perdere Non si allungava il naso Oddio Va bene Dicevi Cos'è questa cosa Dicevi C'era praticamente Nel cartone di Pinocchio C'era la scena Dove c'era lui Non so Che tipo Era fumato No ma che cazzo Guarda non mai non l'ho preso Era fumato Quando era con Con Lucignolo E giocava Giocava al biliardo Sì Eh Eh Aveva strappato il tavolo Non aveva giocato bene Sì 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 Perché Sì ma va bene Una classe Una Cosa del cartone animato È classe È un classico E allora No quando hai detto La palla 8 Nella buca Mi è venuta in mente Quella scena Ma perché Ti devi ingressare Io non voglio mai Entrare nella tua mente Proprio Assolutamente no Guarda Preferirei Vivere Condannato a morte Guarda Vivere condannato a morte Non è male Oddio Che poi È un po' Quello che sto facendo adesso Un po' La condanna a morte È giocare qui A questo gioco Un pochino Dai Un pochino Un pochino Occhio 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 Che buona Vai Vai Non c'è nessuno Non c'è nessuno Perché tanto Non bisogna giocare Con due in atta No Facciamo che Uno è come se Non esistesse in campo Tanto Praticamente No ma perché Dio tu hai senso Sei in porta Ha un senso Ma guarda Il mado Ci sta sulla riga Per dire Eh devo togliere Che ce la prende questo Eh E se no La pigliava il portiere Che come peccato Vabbè Ma perché da lontano È tutta Ma cosa lag Ma che laghi tu Ma togli il cartone di finocchio Oddio No dai ragazzi È due pali di Mamma mia Sta laggando davvero Sta laggando davvero Guardate il ping Stai facendo 92 Ti ho detto Spegni emule Ti ho detto Buono comunque Te c'hai problemi Gravi eh Io t'ho spinto Addosso alla palla T'ho spinto Grazie Grazie Oh via Michele Mese e mese Per decimulare Dici chiave Usate tutto in turbo Turbo casse Non ho trovato niente Eh ci stavano pensando Anche loro Delle turbo casse Ma stavamo parlando Pure noi Due turbo casse Una chiave Offerta esclusiva Di rio Al momento Se volete fare scambio Oh a tavolino Attenzione Potesse che riprende Il diamante Aspetta 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 Ti ho detto Un diamante Prendi No Non me lo dà Perché È giusto È giusto Perché basta Una sconfitta Per togliermelo Per riprendere Non ne servono Dieci Mi sembra giusto Mi sembra È giustissimo Mi sembra Certo Corretto Corretto Che strana Che è boll Abba il plasma Dovebbe avere Tipo il livello Sai il disegno Della merda Quello lì Tipo di arale Secolo classico Debo Doveve è quello Quello lì La merda Lina quella classica Con il corso ridente Quello dovrebbe avere Che bella Vol che ne pensi Potremmo fare una versione Lesbiziana di quello Potremmo fare Sì Sì Bella Hai altri racconti Di cartoni animati Da farci Vol La mappa è un po' meglio Mappa è un po' meglio Meno male Mappa è un po' Cazzo Rimbalzi al muro Che mal Quell'altro Il problema è quello Che conta abbastanza Un po' il culo Con alcuni tipi di tiri Questo pensavo La prendesse lui Oh è buona È buona Tira Oh Oh I want to trade Ok La pepita Via sta sempre l'argento No Michele Alla prima partita Ero oro E sono sceso Ovviamente Ma Rio è un argento È un argento Quello bello Quello buono Quello trattato Quello lì che non È l'argento Quello pulito Con Col prodotto Quello lì Allora quello non trattato Quello è Però quello è meglio Oh c'è uno che fermo Ecco perché abbiamo Ecco perché abbiamo segnato C'è uno fermo Ma io gli ho chiesto Ma io ho detto di sì Io ho detto di sì Gli ho detto di sì Gli do il nugget I cose del Mc Donald Ma non sa neanche Che cazzo è il nugget Non sa quello Quello del Mc Donald Gli do Sette pezzi Gli dici che il Mc Nugget Oh quello è stato Oh quello Lì è matto Ma non mi ha venuto i miss Boh il portavuota Praticamente C'è Bravo Uno schifo Uno schifo Allora Tutte Tutte le hanno missate Poi la porta era vuota Praticamente Allora c'è stato a tirarle addosso al tizio Non si sa come Lui così Ecco Lui fa Lui fa il gol così Immaginate Io invece devo Tipo Consumare 20 camicie Sudare come una iena Mi parlano tutti i gol In rovesciata Incredibili Lui invece no Guarda È vero Guarda 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 Oh mio dio Vabbè 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 Questi stanno male Vabbè Aspetta Aspetta che gli scrivo Siamo usciti a trovarne più scassi di noi No ma questi qua non stanno giocando Non stanno giocando questi Non stanno giocando questi Vabbè Però magari mi darai il diamante dopo Attenzione Doppietta di bolle Ma Alletto Attenzione Vai Dai che si ingrana Dice Dani Ma Boh Questi non stanno giocando questi Non stanno giocando Sono fermi Questi vogliono Le robizze vogliono Non gli frega niente di giocare Vogliono Le chiave Ancora gli la passa Quello Guarda di che Poi scrive sto messaggio Del cristo santo Ed era in porta E se arrivava qualcosa Mentre scriveva Sbagliato 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 Devo premere Quello indietro È la nuova frase È la nuova frase Guarda Io dico Senza pietà Te la metto in una maglietta Te la metto Non stanno giocando questi Questa non la conto Mi vittoria Personalmente parlando Però siccome ogni volta Siccome ogni volta Però l'inferno La conto come vittoria Non mi azzardate a scrivere Tripletta di ball Che vi ammazzo Perché Ha fatto tre gol A porta vuota Ma nemmeno Gli hanno messa dentro loro Non vazzardate Vi ammazzo Arriagli da farlo Arriagli da farlo Guarda Ha fatto anche un bel tiro Non glieli faccio fare Un altro gol Ma perché non stanno giocando Questi A questi non gli triga niente Questi Volevi Fai vedere No guarda Guarda Preferis Guarda Cerco di fare qualcosa Per togliere le MVP Perché non sono mail Assolutamente Dovete scrivere In chat Ancora gliela passi a quello Che poi non spiega Nemmeno Cioè veramente Bravo Rio Ma ha fatto E gli ha parato di nuovo Ha fatto un tiro Ha fatto un tiro Bellissimo Hai fatto Lo sanno già Che cosa vuol dire Quella frase Andiamo Vabbè Come cazzo hai fatto A fare quel punteggio Mannaggia Voi li ha comprati Sono dei venduti A ragione fede Questi sono venduti Attenzione Attenzione L'all team L'all team Ah vabbè I hate I hate MOBA Aspetta Gli lo scrivo Non cegniamo più Così almeno Ma che cazzo dici Bravo Rio Non me ne frega niente Punti Sono punti Rio fammi tirare a me Togliamo le MVP A ball Prima che quittino Per favore Perché non voglio vedere Non posso vederlo E qualcosa di usceno Faccio un gol anch'io Visto che ci sono I gol a gratis Bolle non ci andare Bolle non ci andare Non ci andare Guarda che ci va Guarda che ci va Il maledetto Guarda Guarda che ci va E poi scommettiamo Che capiterà qualche partita Dove non ci va invece Scommettiamo Eh prima non ci è andato Per esempio Diamo un po' Oh ora va bene Ora potete anche quittare Due chicken wings E quattro onion rings Attenzione Dani è un esperto Di culinaria Fast foodiana Si può dire Incredibile Giam 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 Se la guerra No la guerra non c'è Basta che non la prenda Non prenda bolle In vp Poi va bene tutto Vabbè ora Ora si può anche Non segnare Vai Eh ma se Ma se ha scritto Quel messaggio Il tizio Ok Allora perché non escono Non escono Vogliono solo dei trade Vogliono solo trade E vogliono che noi Ma io l'ho chiesto Lo vuoi E io lo do Io mi stufo Oh mamma Sbiasso Tranquillo tranquillo Non andare in retromarcia Ecco Per Per non tirarti la legna Non dovevi andare in retromarcia Ti stavo facendo Autorade Se la prendevo La palla Vabbè ma perché Tanto siamo A zero Oh una quittata Grigo 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 No occhio 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 Che se fa No Pertani la paro io Perché Ecco Perché se Bolsegna Segna Fa MVP Di nuovo Quindi mi Gli tolgo la palla Ma guarda 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 Cerca di rubar Ma guarda Era te Era te Allora dimmelo Che te la lasciavo Volentieri Rio Te la lasciavo Volentieri Non basta Non faccia MVP Big parata Di Rio Rio Grande parata Guarda Prima Facendo Praticamente La retromarcia Stava avendo Un tampon Un tamponamento A catena Incredibile Perché So perché Non quit Ninca Non Contento lui No Rio Mi sa che Mi sa Fermarsi Mi ha fatto Un quello Assurdo Io Se me le lasciano Prendere Io Fai i goli Assurdi Guarda Guarda Abbandonato Non ha preso Il VP Ball Soddisfatto Dai Puntini 10 a 0 Così Adesso Non mi fa Andare Il diamante Dopo Un 10 a 0 Anche Più E Anche Due diamanti Dai No Guarda che non passa Guarda Due vittorie Non mi ha passato Due vittorie Non mi è passato Ancora Guardate 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 Che merda Abbiamo perso Ma vaffanculo Abbiamo perso Abbiamo perso Una partita E me l'ha tolto Abbiamo vinto Due E ancora Non me l'ha messo E ho fatto Un punteggio assurdo Che Questa è una merda È fatta apposta E fammi soffrire Sto gioco E fa schifo Psyonix Fate schifo Basta Non mi compro Volevo comprarvi le casse Ci ho ripensato No Non le comprovo Lo stesso Che cazzo è Stanno facendo dei numeri Ah è la pubblicità Non si capiva niente Non si capiva È lontana Scusate Fede vergogna Sì 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 Nicola intanto Punteggi interessanti 91 Mi sa che è il più alto di oggi Mattmanblog Eh volevi Citazione Mattman ciao Volevi Volevo Questo cacchio Questi ci fanno il culo Ma come 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 potevi Saperla questa cosa Scusa Mi fai capire Guarda i nomi Guarda i livelli Guarda i simboli Ma che cazzo c'entra Ma che c'entra Abbiamo fatto di peggio Abbiamo fatto Ma stai scherzando Conosco gente Che sono uno dei razzi Che No ok Stavo per dire Sono peggio di te No Non me lo sento di dirlo Ah 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 Oh Staccato in diretta Belle belle Sì Comunque Boh Qualsiasi partita È un problema Quando ci siete In squadra Non è che perché Sono questi Ha fatto la parata Qua all'inizio Guarda Allora vai Cambia tutto Guarda Ha fatto pure La finta di tiro Adesso tiro io Però non faccio colpo Perché io prendo la traversa Giusto Ma che cosa Non mi sorprende L'unica frase Che ci sta qua È Ancora gliela passi A quello Tranquillo Lì è fuori di brutto Fuori fuori Ce l'ho io Se la metteva Ce l'ho io Ce l'ho io Oh mamma Bravo Tiramo la soda su Proprio di quelle potenti Ma ero io Sì sì Questo era In complimento gratuito Non era In saccata gratuita Complimento gratuito Attenzione No Mannaggia il titto Schifoso Mannaggia che Mi ha dato i tetti Boh Non devi tirare Non devi tirare Quando la palla Va verso la nostra porta Fai la tua rete Boh Io penso che Oh mamma Eh la potevo La potevo prendere Per un pelo Fai cazzare Fai cazzare Perché c'è C'è la palla Ma non la devi prendere Da lì Fai più facile Tanto Non è che c'è da dire Stavo per prendere Io Mi ha mancato un pelo Peccato Fai cazzare Quando c'è la palla Va verso la nostra porta E lui cerca di tirare Incredibile Perché quelli con nome cattivo Sono più forti Ma dai Lascio a ferro Dice bollo Devi prendere Devi prendere Quando dice bo Prendi E fai Fai tipo una buca per terra E lo lascia là per sempre Cioè Ma tanto ho detto Qualsiasi avversario Ottimibile Quando c'è bollo in squadra Non è che perché sono questi Cioè Che cacchio sono questi Dai bollo La puoi fare La minonna La minonna Questi sono Una merda totale Era quella La forza Merda totale Io cerco di Di dare speranza Al giovane Ma ormai c'è Ragazzi c'è il rio E dà la speranza Oh Gesù Mi piace quando Devi fare Oh mamma Cosa fa questo Guarda il ma Mamma ragazzi Sendo me Se mettiamo al posto Della pala Un dirigibile Manca pure quello No Rio ha fatto Il salto Della parte sbagliata È fatto Dove fai Il tuo X indietro L'aveste presa Non era difficile Ceri Ceri comunque Ceri 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 Userò un'arma Appena creata Quindi resta pronto Fenererai molti soldati Ah Rio Attenzione Rio Dice Paul Minaccia incredibile Era un po' Difficile la tua Pob Paul Ma Ci sta dai Occhio Rio Peccato che non Non ce l'avanti Oh 2 a 0 Si può fare Basta che c'è qualcuno Ma te l'ho vissata Boh le sei messo male E poi la manca pure Mare ma Guarda Quanto è curato Il tuo tiro Preso Zero Eh Rio Ciao Non dovevi muoverti Non devi muoverti Non devi muoverti Non devi muoverti Quando sei Non capivo se era Vicino a lontano Se capivo un cazzo Se non è la bullcam È difficile Non ti devi muoveri Tanto lui Non sono così forte Da saltarti Quando sei fermo Fidati Trade Nuggets 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 Scrivilo 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 Qualcetto turbo Scriviti nuggets Non ho nugget Oh scusami Scusami No Sì 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 Va bene Era bull Era bull Era bull Era bull schifo questo c'è uno che sbaglia con la porta vuota di santo guarda quando prende un pallone non prende più un pallone non prende più un pallone non prende ecco la cosa di un credibile balsamo di origano ragazzi piglia i palloni mamma poi ride no la posso prendere non la posso prendere la vostra prende ormai perso il tempo intanto vol parla sempre di quello fammi scrivere a gett che volevo scriverlo prima bene 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 bravo poche no mi dispiace forse non vogliono fare può sempre fermo pur sempre borse è proprio mamma mia perché mi sto lamentando perché mi sto lamentando e come lamentarsi e come lamentarsi di una maratona che una maratona fatta con uno storpio c'è cosa ti lamenti c'è quello storpio e come spazio la luce rossa come dire che te sei alleato in guerra con la luce rossa e quelli non fanno non ammazza nessuno che è normale non possono fare niente quindi io non dovrei manca rappresenta che sono talmente proprio disgustato da quanto incredibile che riesce a fare sempre merda di sempre quante volte avete visto ormai bull su questo gioco quante volte avete visto bull su questo gioco quante volte tante c'è ormai dio santo potrebbe imparare a giocare veramente tutti ma anche la minonna basta guarda guarda proprio sembra veramente cioè vedere giocare lui sembra che il gioco veramente difficile quando non è non lo è forse si spalma sul muro ma il peggio proprio ma il peggio proprio il peggio proprio più brutto e poi se vai a vedere c'è il meglio che sei tu ben il peggio che magari ah cacchio che voi e il meglio che sono io che faccio un po di merda un po di roba assurda ogni tanto ma il problema che arriva problema che non gioca mai e poi non ha neanche la ball cam non ha le impostazioni poter poter giocare bene non non gli si può chiedere per cui di quello che fa rio assolutamente non è arrivato anche luca luca da tanto tempo non ti vedevo sicuro studio impegni nessuno vuole le mie due chiavi nessuno vuole mai i miei nugget non vogliono secondo me sono diventati vecchi a ranch di quest'ora perché tutti vogliono le chiavi vogliono andate a fa' al culo che cazzo non ho capito vogliono le chiavi perché cacchio di 3d le chiavi buttala su rio no quello non è rio no quello non era rio e anche il gol della cosa della bandiera il gol della merda un tt era un titico aspetta ancora è viva aspetta 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 per loro è il problema che non c'ho più nos mi potrebbe darmi il nostro infinito che professionali luca ciao abbiamo avuto il bot adesso si 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 lo paghiamo un tanto un tanto a chat lo paghiamo io vorrei un bot che gioca al posto mio queste streaming di rocket e guarda lo pagherei veramente io vorrei un po di origano adesso visto che io voglio un calcione marone guarda migliore già queste partite niente nessuno questo nugget del turbo 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 a caso in chat turbo turbo mi fa ridere che uno magari non lo sa tutto da la chat turbo turbo oppure curva così a caso no quello è un polacco magari che lo fa bottina mamma ragazzi quello ride quello ragazzi ma nemmeno mamma mia mamma mia ragazzi le giostre nei calci in culo ci vorrebbero le giostre ci vediamo facciamo le giostre calci in culo facciamo la giostre calci in culo guarda guarda che mi seguo nel muro mi ruba il nos stavo per fare il tiro poteva portare al gol guarda che merda guarda mi ruba anche questo nos ma no bu veramente sei una piaga su una piaga se una piaga una piaga la piaga dell'egitto sei secondo c'è mamma mia le piaghe del terrore altro è che questa parola questa è proprio ma vaffanbolo c'è altro che che infestazioni cavallette siccità e carestia guarda che sta cercando il fatto ci sono ci sono no ragazzi no ma grazie 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 guarda 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 guardano guardano mi schianta uno non ci può credere se non lo vede non ci crede se non lo vedi sembra sembra finto sembra sembra una tantica avversaria si ha fatto anche un gol assurdo ha fatto ha fatto anche un gol assurdo ha tanto è facile bull è proprio sempre peggio è sempre peggio è sempre una merda meraviglia io ma se io vorrei isentro porti una volta isentro solo a guardare solo a guardare guarda guarda che sfiga poi c'ho io dio santa solo a guardare direi mamma mia che merda lasciala lasciala sei un non sai che no anzi non è che se sei un danno sei un danno non è che sei inutile sono magari tipo guarda mamma mia comunque se sei incredibile che riesce a peggiorare sempre di più è uno sembra di avere raggiunto il gap di merda eppure non c'è non c'è è una notte rio occhio e non l'ha messa questa palla ero punto a saltare ma sono sempre sono poco no se non posso fare nulla ti chiedono se domani se c'è il rio non lo so non lo so bisogna vedere perché devo finire persona più presto se posso no alla parola c'erano due portieri c'erano due porti anche se una parola c'erano dietro non uscire merda va bene per fortuna l'hai toccata è difficile toglierla è difficile togliere quella lì non vedi 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 che ci vuole tanto a fermarsi per la prendere a rio la palla tranquillo grande non mi ha dato parata è incredibile perché è fatto male sto gioco guarda guarda che borsa aveva fatto rate se non c'era rio credibile va tira porta vota o meno porta vota vai tutti lo sanno ma l'undicesima piaga e scatenò due football che gioca al rocket league ma aveva fatto le piaghe dio non ricordo questa cosa però mettiamo questa così poi l'undicesima dicesima numero ragazzi da insegnare ma no no salvati almeno tu salvati ma stai scherzando io io per il mio compagno voglio 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 cancellarlo voglio vai io ti lascio tiramelo sui lontani sono lontani e lontano ma puntata di quella cosa le zoppe proprio le prostitute zoppe ma che non so più cosa fare non so più che offendere o per un gol o per un passaggio boh sei il danno sei il danno ho fatto due gol gol però eh complimenti è che la porta è sbagliata ma dettagli sono semplicemente diciamo occhio non era difficile purtroppo però lo so ma ero girato non me l'aspettavo subito io non ho parole io non ho parole sul serio boh fai schifo sei proprio il peggior giocatore della storia penso io penso io penso veramente veramente giocare giocare due contro tre sia meglio ma perché che cazzo ridi cazzo ridi che fai schifo fai schifo io penso io penso ma io penso io penso ma io secondo me sai ma io non so più cosa dire non so più le affese mi ho finito le offese ho finito sai quando fanno tipo gli studi sociali tipo prendiamo questo gioco possiamo provare a persone tipo sai quelle persone tipo gli anziani fanno giocare tipo a code se non fanno giocare tipo a persone a caso giocano tutti meglio ma io non ho parole oddio non so se ci si fa poi ho perso veramente la fiducia e speranza oddio mi hanno dato una laggata mi ha dato poi non ci vedete ma non ci sono praticamente palle giocabili non ci sono quindi è difficile poter fare un gol a meno che non prendi gli scarti tutti a questi ma è complessa è un po' difficile non c'è più no io te la passo tira bravo va bene va bene anche così va bene anche così importante che non è però 20 secondi non ci si fa è un po difficile volte stai praticamente andando a un caso il campo non non ti stai curando se ci sono i compagni c'è qualcuno ma vaffanculo ma vaffanculo te e i 14 secondi mi insulti a tutti mamma mia ma i secondi insulti bolf è qualcosa di indicibile diciamo che era meglio se non toccavi la palla in due occasioni no ragazzi per la mia faccia per la mia faccia non dovete ridere dovete io sto piangendo passmala e questo è un passaggio questo cioè te veramente sei sempre capace di cercare di fare di fare la torre guarda provo a tenerla su così no niente ora ti ho già risposto non lo so se c'è domani io potrei esserci io che io che devo finire persona 5 la priorità al momento come streaming sono disceso ad argento intanto questa altalena guarda io preferirei veramente veramente qualsiasi cosa preferirei veramente vorrei studiare guarda vorrei studiare in questo momento prende lì vi studiare che fare questo vi giuro e lo giuro ve lo giuro facciamo la facciamo la streaming di studio ma preferisco quella qualsiasi cosa ma proprio veramente qualsiasi cosa il calcetto il calcetto con il calcetto con una squadra solo di madonna solo di madonna da una parte dall'altra guarda che non è partita la merda bolli io penso veramente che io dice verso falle a isente ste steaming via fargli vedere perché cosa direbbe isento al tuo avviso rio cosa direbbe isento lasciate la strana non posso dirlo perché altrimenti porconi andarmi se si porconi provati oddio che fanno lasciamo tutti qua ragazzi siete portavuota siete tanto io non posso farlo non posso fare un tiro calibrato direbbe pd manco voglia la passata a quello poi sempre ss go o bella perla mettete in mezzo mettete in mezzo eh niente eh niente eh niente schifo la porta lui caculo eh purtroppo non avevo abbastanza nossa per tirare la porta vuota tu mi dovete spiegare mi dovete spiegare che cacchio fa bollo che si spalma nel mamma mia bollo veramente fai schifo eh fai schifo io non ho mai visto io non ho mai visto uno giocare così male guardate lui come gioca non guardate me guardate come gioca guardatelo 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 proprio guarda che è incredibile proprio proprio io spero io io ogni volta prego che lo faccia apposta non è non è più rocket league questo questo è in sacca a volo ormai il gioco no no eh buonanotte al secchio ma speriamo che ci anneghi sopra e ti spacchi il ma vaffanbrodo schifone ah feccato che cazzo si butta quello lì praticamente doveva saltare solo me perché ho fatto lo strif per sì lo strif buonanotte mi son buttato per fargli tirare boh te bastava che non ti buttava e la prende vivo non facile di più quella palla perché si deve sacrificare soltanto uno a fare il pressing e gli altri non c'è bisogno che si sacrificano per così dire buonanotte speriamo che prendi ticati ti dino un cappio al colo ti spacchi in due le cervella veramente mamma vita speriamo veramente guarda che sta per fare un altro voto per rete te non lo sai di lo vedo no non posso prenderla che ho sempre il no boost non c'è il busto per prendere stile palle che sono una cazzata poi guarda quello non lo poteva prendere quell'altro guarda lì che sembra che sei mo... sei... sei uno zoppo sei mannaggia ma cosa povero... ma come fai a dire povero ball povero ball dai guardalo no eh guarda no rio mi hai tolto a me qua il tiro porco giuda schifoso e guarda si pia anche i gol ma guarda che partì del... no senti ragazzi sto giocando troppo male rio stai fisso in porta e volte non giocare fammi proprio fai fermo non giocare ti giuro vinco guarda rio stai fermo in porta volte non giocare fermati vatti a mangiare un limone vai a che parte vatti vatti a vedere qualcosa non lo so vatti a vedere i pinocchio vatti a vedere i pinocchio quella scena vattene a rivedere ma porco di morio forza forza l'unica speranza è rio eh cacchia prendo il nostro e torno indietro eh non c'è altro modo por mi raccomando non fare niente meno fai meglio è eh va fuori purtroppo però non c'ho molta fortuna dalla mia purtroppo però mi impegno però dobbiamo cercare di... forza buttala su bravo bravo no merda che è andata non la prendere bur non la prendere che la peggiori la cosa non la prendere ero io ero mi sto fatto da parte eh no cioè sono sempre in due in porta sono messi camperosi ci vorrebbe... sai cosa vuoi? tirali una stecca a loro tira una stecca così magari gli smerdi se magari diciamo li confondi un po' no li confondi togli via il portiere così eh si però dico se sono in due mamma l'ho parata ma culo qui forse è la... è la via... è la buona eh vaffanculo sta cazzo di camionetta di merda speriamo che si bucano le ruote e rimanga fermo e l'auto stop glielo danno poi lezzo basta ma Rima sto smaltando guarda che è sempre quello in mezzo a rompere guarda fuori Benji non ti agitare il ragazzo imparerà a dargli tempo ma ragazzi mi fate incazzare eh mi fate incazzare scocco panda tank benvenuto mannaggia benvenuto ciao bentornato benvenuto in base a però dai però due le avete vinte cosa due che una partita ce l'hanno regalata perché non lo stavano giocando quegli altri la maremma zoppa la maremma in realtà quello che è scritto veramente mi fa incazzare a livelli indicibili io spero che tu lo sai questa cosa spero che tu lo sai eh vai vai buona 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 va bene va bene vai continua tirala sta palla tirala maremma eh 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 si riesca a pigliare il nos poi quattro gol a quattro gol ormai si recupera più maremma eh quattro gol e un po di più eh no quattro gol è impossibile semplicemente ok buona 5 gol direi ma c'era di te che c'era in porta l'avevo visto guarda che si tira le stecche addosso al muro da solo si tira guarda che roba che meraviglia ragazzi lord di saluta ma lo sai già ma poi mi riscrivo appare nel video non appare mi dispiace non potrai fare questa cosa questo piccolo trucchetto l'hanno tolto probabilmente quelli di twitch non si possono fare queste cosine non c'è nessuno in me ragazzi oggi la vedo brutta la vedo brutta perché è proprio è uno sfatto praticamente abbiamo gente che sta che sta praticamente remando contro allo stesso squadra non ci sta in modo veramente più facile più facile vince una partita con la tv spenta veramente più facile prendere gioca meglio gioca meglio il pad è preso è buttato giù per le scale gioca meglio per dire cioè qualcosa di incredibile non siamo su pc siamo nella merda no che è merda qua non guarda questa streaming non guarda questa streaming vai via basta 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 fa schifo basta fa troppo schifo guarda che fa tirare guarda ma che cazzo ma fai apposta dai non ho parole cazzo cioè dai guarda ora io non l'ho parata va bene ok io non voglio più giocare basta che vita triste panda non è vita triste magari fosse triste fosse triste sarebbe no proprio una vita brutta vita proprio ci stai proprio male proprio il male sai il male proprio il male è che uno si sente proprio male porta vuota no me l'hai stata addosso ma guarda conti giorni dalla botomia quando arriva veramente ma che cazzo ride c'avevi 800 km guarda c'era anche ps4 ingiocabile guarda panda è giocabilissimo basta non avere in squadra i topi ragno morte con problemi di cervelli praticamente mamma mia mamma mia incredibile no ma che privata panda già stiamo messi male così ci va a cazzuola le private assolutamente le private le private soltanto soltanto le giornate con i follower visto che sei col pc ti potrei inserire in caso ci sono anche due persone con il pc nel caso ci sono inserate i follower mi segno quelli che hanno il pc quelli che non lo hanno insomma sono tre già quindi sei il quarto oddio lord intanto dice oddio che dice facciamo sentire a banj la canzone ignorante l'ho già sentita probabilmente oddio mio ma poi ma perché ce l'avete con me ragazzi non vi basta questo non vi basta questo che è una merda totale giocare con non vi basta la sofferenza di me cioè veramente ragazzi io veramente vorrei dire giocare veramente con giocare con schermo condiviso in quattro con gli altri tre pad che non giocano io che vedo con uno schermino due pollici giocare così per fisco già così giocare con gli altri che non giocano in quattro di quattro e si può anche più vincere si li metti tutti in fila in porta magari parla anche di chi questa si recupera eh vai almeno un gol è sempre affatto vabbè ma perché hanno fatto la cagata di avversione si vince boll ce la stai già mandando ma balletto ping pong fra qualche minuto avviso oh mamma che vuol dire giochiamo a ping pong guarda preferirei giocare a ping pong ma veramente con le palle le palle però usiamo quelle di qualcuno usiamo no ma rimane sempre in no se finisce guarda guarda si sta già preparando si sta togliendo per giocare eh niente no non usci meglio così ah l'ha tolta lui l'ha tolta lui ok tolgo io 61 in porta ti tiri una bella fiamma una bella fiamma non l'avevo nostra non l'avevo ha tirato lui la bella fiamma vabbè vai vai le fiamme fiamme tira la fiamma a caso a caso guarda è meglio quando tiri a caso che quando tiri premeditato vai che bello oh vai un rimpasto non penso bene dimmi se sei disposto a sentirla no non sono disposto a sentirla una volta che l'ha sentita è morto dal ridere no ragazzi ormai ormai guarda non è difficile che mi metti a ridere in questo momento mi sento male anche perché c'ha problemi diciamo un po' di di sale no problemi sai quella depressione quella depressione che ti porta a dire veramente io potrei fare altro nella vita proprio anche ammazzarmi nel senso proprio c'è proprio crisi merda vabbè l'ha fatta massa ma l'ho ucciso c'è abbastanza sfiga terrio oh dio dai no non entra c'è abbastanza sfiga il rio nel rimpaglio che ho notato questo l'ha fatta sporca si l'ha fatta sporca si è cagato in mano mentre volavi cosa vuol dire questo l'ha fatta sporca guarda 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 sale sale guarda meglio che non l'hai presa l'avessi messa nella traversa che sa cosa tanto attenzione lord si becca i warning attenzione lord non si si comporta così c'è il bot il bot non transige guarda che tremendo il bot tira le botte proprio una botta triste questa prova un bell'assist dai provaci grande bravo vedi che c'è il rio rio l'unica speranza bravo rio ragazzi bravo rio 4 a 0 guarda che bravo rio guarda così vedi impara da rio impara guarda soltanto dirti volo impara da rio veramente incredibile non perché rio è scarso perché rio non gioca mai è incredibile proprio incredibile guarda se finisce che ti dico impara da isn't su sto gioco io direi proprio l'uninstall arriva quella è tanta roba davvero perché isn't veramente non ci gioca oddio questo ha fatto una micata incredibile però si è salvato in extremis ma rio deve insegnare su tutti i giochi si 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 guarda guarda rio te lo affido guarda vuoi insegnare a tutti i giochi vedrai Tekken su Tekken avete presente la rabbia la rabbia per repressa cos'è ecco l'avete presente non lo sapete non lo sapete che cos'è non lo sapete lo immaginate quello è l'un per cento voi immaginate su Tekken uno contro uno contro ball cosa succede ball ti sconsiglio quasi di prenderlo per dire guarda tanto ti stavo facendo complimenti bravo rio bravo rio guarda grazie grazie ragazzi credetemi credetemi molestamente voglio dire oh mamma il ping pong di polo l'ho letto adesso oh mamma oh mamma oh mamma mia oh mamma mia non ho paura di prenderla questa no bull oh mamma santa bravo rio non devi avere paura di prenderla devi avere paura di qualcos'altro è una cosa è una cosa che si muove con si muove una parola grossa eh no niente no no dillo no io sono vergino pure di prenderla ragazzi mamma mia dopo di questa ci si merita il mate in altra torretta da bull guarda in effetti non è non è sbagliato il ragionamento ball cacchio stai andando a due allora riesci comunque no toglia toglia toglila ha tolto me ball ball vuoi capire che in porta c'è il rio oddio ritroppata dietro il culo ritroppata ti piaceva quando te la parola dietro il culo un po' un po' mi è piaciuto vedi vedi il calcolo oddio stavo calcolando c'hai calcoli renali ball si tu l'avevo alzata ragazzi calcoli renali di alzarla oh mamma oh mamma bella questa tira 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 ball mamma che schifo cioè quando ci adattiamo alla nostra porta subito pronto lì invece no ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto sbagliato aspettatevi devil jean ragazzi aspettatevi devil jean si 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 guarda guarda usalo devil jean proprio alla prima ma l'emma sempre sempre in mezzo è incredibile se lo usi devil jean alla prima becchi delle delle schioppe nel viso veramente me la toglie e me la toglie uno fa fatica a tenersi dopo la testa a cercare di fare i dreaming e la toglie ragazzi si volte veramente sei qualcosa no veramente cioè non ho più aggettivi io adesso bisogna adesso devo chiamare la cadena della crusca per creare nuovi aggettivi per le offese a bull la crusca per creare un aggettivo nuovo si aggettivi nuovi per le offese che non ne bastano più non ne bastano cioè proprio sei qualcosa di inconcepibile sai uno dice guarda in questo gioco puoi fare un tot di errori tipo 100 bull riesce a farne tipo mille nuovi incredibili cioè veramente c'è tutti gli errori che sono possibili e li ha fatti tutti tutti poi va a casa completamente come se voi aveste allora l'esempio più facile è se non avete il gioco il calcio come se vi giocate a calcio o calcetto e avete in giro uno che tipo è affetto da tipo zombite ok problemi mentali problemi mentali fortissimi come vi dico sempre uno che tipo si è mangiato i sai da bagno e vaga giro come uno zombie praticamente immaginate questa cosa in un campo da calcio o calcetto e praticamente va a caso a giro a caso a caso completamente tira va pedata a tutto quello che si muove ruba la palla ai compagni tira a caso tira dietro di avanti senza senza motivo senza motivo praticamente senza motivo chiaro poi va bene fa un bel tiro qua si dice il 6 a 0 va bene che cazzo io se fossi gli avversari premere il tasto ps esce dal gioco disinstalla io non giocarei più poi se si becca un 6 a 0 da noi e quell'altro ride nordizanzo dice notiamo ball 0 reti notiamo ball 0 reti notiamo 0 reti guarda Nicola che cazzo ha fatto guardalo oh mio dio guardalo vabbè Nicola tu devi andare subito a giocare qualcosa zanzet vabbè che Nicola ci stai trovando mille volte oggi tra legge dei grandi numeri prima o poi ti sarebbe accaduto oggi sei stato tryhard tryharder dei dadi notiamo ball 0 reti notare ball 0 reti notare notare un totocalcio fai non lo so ricordo va bene un super enalotto insomma lord dice rio quando esce tec giochiamo insieme tutte le sere lord ma con rio però giocare con rio con me con me lo ce lo gioca bene bene si gioca ragazzi bene 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 allora lord non niente partite lord giocherai con rio e ball perché io non ho no ball lo voglio io su tec non lo do ammazzare ball sarai ucciso ball sarà annientato proprio te finirai la giornata di tec che guarderai il gioco e ti dai perché l'hai comprato proprio cosa sono sti dadi rio fammi un tutorial guarda te lo faccio vedere subito questo è il tutorial i dadi sono semplicemente il coso sono semplicemente guarda Nicola hai vinto hai vinto Nicola hai vinto una pacca sulla spalla quando ci vediamo il primo raduno una pacca sulla spalla non è male è una mappa nuova oh mio dio oh mio dio che cazzo di parata fa rio ball l'ha spiegato rio devo stare zitto sulla cosa di ball o devo stare zitto sul complimento bravo rio sulla parata che ho fatto ah ball sempre in mezzo borditori dal cazzo non so come l'ho fatta fortuna è questo mamma è morto male bene tranquillo su te che ti picchierò io guarda Tariele non vedo l'ora guarda tanto te l'ho detto una volta che esco da sto gioco io questo gioco lo farei fare al posto mio presente quei monaci zen presente tipo la calma è l'unica via ti immagini una cosa del genere la storia per la scenetta che tipo tu vedi questo tizio che è presente è presente è in grido che è in nerd io la puntata quella di ninja gaiden che aveva chiamato il ninja per farlo giocare a ninja gaiden per dire ci vuole calma ci vuole cosa non ho capito immagino tipo una cosa del genere con tipo i monaci oh mamma qualche è successo e tipo io gli dico guardi ho un problema vai dai monaci zen quelli che fanno la calma ho un problema gioco con con questa persona che mi fa sempre arrabbiare ci vuole calma ci vuole così cosa è ma non ci riesco non ci riesco tu va bene sai cosa faccio ti faccio vedere io come si fa arriva il monaco ci prova e si vede un po' dopo dieci minuti il monaco che prende e tira le stecche addosso a vola schifoso schifoso bellissimo la ricopriamo così ma come non deve essere calmo no no quanto di lui ci vuole la gogna ci vuole no ragazzi non c'è nessuno in porta però non fa manco gol fuori fuori eh però adesso non è più fuori cacchio no ragazzi non si può andare tutti avanti in attacco io ti ricordo che bolle non esiste in partita praticamente io li mi sono schiantato fa il culo a me no non la voglio in quel modo eh ho fatto un po' una merda cos'è il 23 lord 23 è un numero è un numero più grande di 22 più piccolo di 24 lo so che è uno shock ma così funziona praticamente non l'ho inventato io la matematica l'ho detto io la profe di matematica l'ho detto ai tempi il profe gli ho detto io ho inventato una matematica diversa dove i numeri sono sbagliati ma lei in realtà pensa sbagliati ma nella mia matematica sono giusti però lei diceva di no ricordate ragazzi che c'è un cooldown di di 30 secondi per il bot non fatevi troppe richieste se no poi si confonde forello ogni 30 secondi ne potete fare una oh mamma oh mamma questo può tirare ah minchia meno male ha fatto un tiro di merda meno male meno male mi dico se riesco di intercettarla ah sai che mi sai che questo tetto qua è un pochino più strano questo tetto rispetto a quello classico si si di sicuro quello davanti nella sponda davanti è sicuro quello vicino alla porta pure è meglio così senza così tranquillo rio tranquillo rio non sono bull tranquillo oh santo dio eh qua devi prenderla non dovete te li dire non è andata via ero incasinato ero mi sono smerdato vediamo mi sono smerdato quando mi è passato davanti mi sono incasinato no quello è il parcheggio della copp quello hai fatto il parcheggio della copp stavi cercando il parcheggio ho fatto il parcheggio della copp ragazzi ho fatto il parcheggio della copp purtroppo quello è il classico parcheggio della copp quando ti incasini perché non riesci più a trovare la posizione giusta capita soprattutto a quelli che non usano la ball cam e ovviamente a ball lasciatela 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 ok vai ora adesso ora adesso ora adesso che il portiere non c'è mamma mia incredibile perché l'importante è che io la tiri addosso il portiere magari non la piglia o la prende e poi con l'altro fa il gol a porta vuota è proprio easy easy peasy vai tira tira oh santo cioè però devi prenderla rio sennò ti fanno gol dopo dio buono eh eh sì devi prenderla non era difficile eh mi sto pensando tranquillo che è successo no vabbè è un altro parcheggio la copp ma mettila nella parte dei disabili mettila a sto punto no quello è riservato per ball scusa li ha riservati tutti lui che posti in effetti sono tutti io l'ho imparcheggiato l'ho detto lasciala lasciala bravo bravo con le presa guarda infatti volevo che la prendevi oh cristo signora non c'è mia non c'è mia verso toccarla così male ma così ma proprio brutta proprio dici guarda ci sono 20 modi per toccarla palla devi toccarla in modo peggiore che conosci trovo eccolo lì no è tirata una stick è tirata troppo alta perché non pensavo la prendevo oh va buona notte vai un solo gol ragazzi dai si può recuperare ah cacca tanto ma Paul si sta salvando fisso ma Paul non sa che si sta salvando fisso perché è messo in in coso perché è messo nella categoria dei salvabili sei sicuro? penso di sì lo sai non lo so perché non dovrebbe dire una cosa diversa non lo so eh adesso non ne sono sicuro no se sei moderatore dovrebbe dire una cosa diversa e non sempre non lo so perché io dico non lo so dobbiamo dovermo testare ce la fai a darmela oddio santo eh oh mamma mia non è come quello che voglio guardala e basta vai al centro centrati vai dai ci manca un gol ci manca un gol ok aspetta aspetta il rimbalzo è mio minchia la presa bene il nostro amico però questa qua va in mezzo perfetta perfetta è perfetta oh ho fatto oh finalmente finalmente un gol con la G maiuscola gol proprio questo è il gol finalmente messo bene ma ce la fai se tu ti mettissi sempre lì ma ne faresti un miliardo di gol faresti un miliardo perché ti metto sempre la la metto io devi mettere il punto escemativo davanti poi mi ricordo te lo sei scordato non so perché voglio ucciderti vorrei farlo io ma ragazzi guarda che potremmo potremmo anche vincere potremmo siamo in pareggio vol sei lì fermo ok 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 ci sono i portieri oh merda mi è uscito ragazzi se ce la fate ditemelo che a volte ce la parla in me copro nella telecamera se il portiere esce che lo frego io mi dice mi è uscito mi è uscito oh mamma filo capo grazie dei follow grazie dei follow grazie del follow filo capo ho letto filo ferro all'inizio però non era lui bellissimo no no ragazzi veramente mamma mia veramente ma io penso nemmeno le manguste riescono a fare cosa guarda l'altro parcheggio la cop guarda ma cosa adesso ho rimosso Paul dai regular a parte che non gufo nulla perché ho detto potremmo vincerla con il condizionale raddoppiato il problema è che c'è ball tutto è possibile in effetti c'è ragione oddio ti prego ti prego addosso si 4 a 4 dai io ho fatto un simo più insistente dice 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 lei che le more in queste partite oh mamma ho fatto una minchiata totale vabbè non dico niente non dico niente no record è un caricatone per Paul vai io tu 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 vai vai ragazzi forza voglio voglio vincere questo lo dico dai ok 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 buona 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 adesso mi prendo al rimbalzo eh vedi vedi con questa mappa qua c'è il rimbalzo un po' diverso devo studiamolo bene perché ce l'ha un pochino più alto il tettino secondo me oh vuole devi prenderla tu vuole lo smoke desiderato alla palla vai alla palla centrale ok 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 sì 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 ma che è il disturbo ma il disturbo quando c'è la internet 56k ragazzi incredibilmente sei vinto hai visto incredibile sei vinto incredibile con due parate pal suo ragazzi finiremo la giornata che riesco a riagguantare il diamante chissà ragazzi tutti fogati con 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 la lulenza incredibile grande filo capo è stato merito tuo il tuo follo ci ha dato potenza grazie e coraggio e anche un po' di fortuna e magari Nicola sta sgravando guidati io glielo ho detto vai subito a giocare minchia Nicola guarda l'otto attenzione adesso li riovo anch'io sta solo rollando sopra il 90 ha fatto pure un 100 ah oh eh 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 allora scusa eh eh oh eh eh cozzo vabbè non basta non basta oh ma questa questa mappa basta ma basta ma tanto te boh dovrebbero toglierti tutte le mappe dobbiamo giocare senza mappe sono tanto le porte probabilmente basta la toglie ma una porta all'altra bravo rio spero già che la prendevi no ecco ma toglie guarda sei una piaga una piaga sociale una piaga ambientale oh mamma ho capito lì babà ho capito vai tira sei una piaga lì babà sei vabbè eh da lì babà ci sono le piaghe che cazzo c'è la carestia c'è da lì babà c'è la carestia c'è una piaga lì babà chi ha fatto 99 mamma oh dio eh tanto Nicola ha fatto 100 ancora Nicola non lo però Nicola ci sta provando troppe volte ormai oh mamma se ti mettite in fronte a quella palla io non ci posso andare a ragione eri io no cristo signor bolle ma se ti metti guarda ti viene un infarto tra poco io lo dico devo vincere i soldi gioco il 7 se escono un 6 ah dice lui che se ci sono i soldi in palio lo non beh l'hai fatto tu brava in questo assomiglia un po' a Rio assomiglia che lui droppa benissimo prova se è roba di soldi prova esatto però alla fine su Destiny ragazzi ricordiamoci un giorno su Destiny dobbiamo rivedere se sono oh mamma Bolsa è veramente sul 2 dobbiamo vedere se si confermano le situazioni del vecchio con Rio che droppava in maniera imbarazzante io che ero normale cioè avevo i miei momenti di sfiga i miei momenti di culo così standard non Rio un pochino più oscuro però diciamo di fortuna però vivibile vaffanculo non sta laggando bolle tu immagina quando tu dici sto laggando tu devi autodirti tipo come età sai tipo quando il bot è tipo modera da solo tipo appena dici sto laggando pensa vaffanculo mio che è il ribafo inesorabile vai vai Bol troppo è sbagliato dovevo passare di spegnere quella troiata di praticamente poi c'era invece Isent che è il nostro terzo della triade che praticamente oh mamma gli ha parto quello che praticamente era sfigato in maniera indecifrabile cosa da leggenda praticamente oh mamma dovrebbe andare fuori eh però ok ho detto ho detto no ma c'è un lag pesante ma allora non lo prende stai fermo volo guarda no 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 è vero è vero è vero sta laggando boll stai fermo non fare più nulla stai fermo mi raccomando no 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 è la psicologia inversa bene no 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 voglio farlo star fermo così non fa danni stai fermo stai sì 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 per quello per quello mi raccomando non ti muovere non ti muovere non far niente che sennò magari è peggio paura poi la leggenda poi la leggenda vuole che boll giochi meglio quando lag perché non c'è più tanto sì guarda che una volta fece una partita buona per i suoi standard che li laggava veramente occhio rio eh prendila ma va vangura voglio prendere che se no lo passava all'altro tommy bella bella ciao bella tommy ciao ciao bella oh finalmente poi è stato ucciso dalla pistola ma mare quindi non era per quel motivo abbiamo avuto la conferma era soltanto pulata ah l'hai tolto 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 oh cacchio attenzione rio volevo cercare di fare la bollita gli ha preso la bollita eh un po si eh boll te lo dico proprio con gentilezza ti togli dai coglioni quando ce la parla io proprio te lo dico più gentile togli te dai coglioni è fuori di brutto eh cioè io non devi capire che io quando sono andato devo andare avanti per fare tutto cioè devo driblare anche boll non basta driblare anche le abbezze scherzi è vero Matthew ciao anche a te ciao Matthew bentornato bentornato eh se qualcuno ha cassa in nitro su pc oh marda eh non posso toglierla vedi boll se tu non ti toglievi dei coglioni prima ti davo facevo gol mannaggia da schifa purtroppo no pando io ho cassa in turbo su ps4 purtroppo purtroppo pando io del canale ne conto altri tre che giocano su pc però non penso ci siano un momento a guardare non penso quindi mi spiace oh mamma ragazzi un nitro ci si può anche fare basta boll che non fai mai butta la destra dio vabbè diciamo che l'hai buttata però ok portavuota loro eh vediamo se riesco a fare qualcosa no non è più portavuota maledizione ok ok non è male vai 56 secondi non è impossibile non è impossibile allora se vi capita che siete avanti tirate una stecca ai portieri loro ok no rio sei un infamio io che mi vantavo per nulla ah per quella roba lì no no ma non lo sapevo neanche noi ah Tommy c'è da xbox bravo Tommy stiamo prendendo un po' tutte le community pc xbox va bene così ball tira ball tira mamma mia quello è un tiro attenzione non ho nos maledizione a me neee non ho nos no porco demonio al nos ragazzi che l'ha inventato questo gioco del cavolo ball fai qualcosa di utile tira una stecca agli altri quelli che non hanno la palla tira una stecca tira una stecca mannaggia schifa ball fai facendo danni tira una stecca a loro lasciala perdere il pallone non è cosa per te lascia perdere il tuo nickname lascia perdere niente niente pallone per te levati levati ok dai tira adesso ma putta sai quelle schifose che stanno nel marimma schifosa nell'aspettare marimma schifa no mamma vaffanbolo peccato di un gol niente ahhh vabbè dai vabbè questa l'abbiamo combattuta un po' io intanto mi abitua all'argento ormai niente più oro niente più mango da mandare boh se è veramente una sei una piaga ma qualcosa di indecifrabile proprio ma da solo ma da solo non ti fai schifo non ti fai schifo mamma mia come cazzo faccio già così male di continuo imperturbabile per mesi e mesi ma proprio io mi sentirei io mi sentirei talmente male proprio ci soffrirei dentro se fosse a posto tu io mi sarei già o mi sarei sgozzato avrei cambiato gioco vita non so dimmi te qual è la sensazione quando giochi l'olimpica si dice no no l'olimpica è roba buona oh mamma ah no è fuori è fuori sensazione di sgotto no ecco tipo questo bravo mi è piaciuto è stato stato tipo un minuto di filo a dirti vai addosso a quelli vai addosso a quelli non toccare il pallone non toccare il pallone e niente oh mamma ah va bene va bene va bene finché ho combattuto qua per tenerla vediamo hai fatto bene hai fatto bene devi dare fastidio va benissimo ci provo no vai a dormire che domani è una giornata lunga paul buonanotte io invece vado a letto tardi mi alzo presto perché sono pazzo mi ha dato di mente d'altrondo ragazzi devo essere pazzo per giocare queste partite no giusto non deve essere una persona normale oh tira ma vaffanculo te il tiro di schifo ma perché anche io benji perché glielo chiedi perché lo chiedi ma che cazzo fa ma sei scemo ma tu hai problemi lascia perdere lascia perdere ah hanno preso A sembravi quello di Destiny hanno preso A hanno preso B C Sì speriamo che ci sia di nuovo il doppiaggio meraviglioso ma per questo pezzo di merda no oddio che cosa è successo che cosa era questo no vabbè scusa fatemi rimanere la tua no ragazzi io spengo la play non voglio più giocare fai vedere spengo e disinstallo in questo ordine che è anche qualcosa di impossibile che cazzo mi vergognerei che carichi non mi vergognerei mi fai schifo non ti metti fa sti gol a culo mamma ma poi questo è un bel gol non è bel gol sai perché perché pure è sbagliato praticamente a tirare è sbagliato è andata è andata bene è andata male ma però un po' mi è piaciuto ma a me non mi è piaciuto per niente guarda prefisco perdere che vede queste cose guarda si guarda non se lo merita non se lo merita non se lo merita non se lo merita c'è una cosa che non si mette a bolle è il culo guarda non si mette a il culo no sai proprio va da schiena fino ai piedi non c'è il culo no ecco perché c'è un teore che mi tiri le stecche bolle ma vuoi smette di rompermi le scatole forza di tira bravo boh si sa in due momenti che mi prendi da dietro mi tira le stecche all'infinito la butto di lato la forza no vabbè basta ragazzi c'ho il culo rosso adesso c'ho tutte le ste stecche il culetto rosso il culetto rosso la faccia già no era nessuno no è meglio no ti voglio vestito ti voglio vestito tutto di verde verde la faccia gialla il culetto rosso come un semacono no è bellissimo io domani vado in carcere guarda lord ti vado a far visita io se vai in carcere andrò anche io in carcere quando scopriranno in live in streaming che avrò fatto l'omicidio a bolle praticamente non avrò mamma mia ti ho fatto una patata a quello un e mezzo vai vai ha fatto una buona parata ha fatto rimo ti ricordo di dolce soldaten ma vaffa in culo porco demonio l'aveva ascoltata si ma non è il caso adesso tira la su tira la su ragazzi è la seconda palla che togli via un avversario è incredibile è meglio meglio così è il caso di mettere dolce soldaten no no vuol stai male problemi problemi gravi oh mamma oh è smerato anche quello lo fa facendo la coppia sta facendo occhio che sono tutti avanti se fate un bel rinvio vai tu no ragazzi no ragazzi se pensi così in portavi è una merda e ve lo dico non so prendo delle stecche dietro veramente l'altro è coletto rosso c'è veramente le piaghe anche ho le pieghe nel culo e non perché streamo troppo no no non per quello ci manca forza forza oh finalmente ho tirato una stecca a benji frullano i baffi e non solo i baffi frulla un po' tutto adesso anche minuto e 40 di sofferenza ancora no ho sbagliato tiramela su se riesci sei messo bene per farlo merda qualcuno ha tirato una stecca da dietro ma al solito boller non ti dico di farmi il passaggio e infatti mamma ragazzi lo fa l'avversario il passaggio guarda mamma mia parole non ho parole fuori fuori occhio che tira mamma mia qua hai avuto un culo sempre in mezzo al coglione boll proprio bravo bella sempre in mezzo cosa hai proprio in mezzo ai coglioni boll te veramente non hai non capisci ma li vedi io quando vado a prendere il pallone no niente oh mamma ste stecche madonna ragazzi io ho un minuto di sofferenza boll devi devi fare qualcosa un minuto di sofferenza ancora oh no te la tolgo vai te la tolgo eh dimmelo se da voi oh cacchio ma che cazzo fai ma stai male boll sei male devi farti ricoverare io te lo dico farti ricoverare da qualche parte da uno bravo anzi no da uno bravo da uno matto perché comunque deve deve stare anche matto per prenderti a esame dai tira che c'è porta vuota cioè mamma ragazzi puoi giurare da porta vuota no però io a caso a culo si non ho no se io di prenderla te te lo dico bravo rio l'ha tolta quella o porta vuota finalmente vai tranquillo rio tranquillo l'ho visto l'ho visto l'ho visto che fino a fatto non si è più visto arriverà arriverà con te che non ti preoccupare arriverà lo pretendo io infatti molto spesso quando vediamo ste partite vorrei averlo per vedere cosa dice guarda si si abbandonate i maledetti schifosi povero è insaccato è che quando segna ma stai scherzando terriere stai scherzando ma bolle oro oro di nuovo oro ragazzi ma perché io gli dà l'oro o meno il diamante non me lo dà più ma 15 5 minuti qualcuno se vuole aveva detto 5 minuti avete vinto ragazzi voi dovete mettervi nei miei panni nei miei panni nei miei panni ma nei miei panni veramente si sente malissimo rio dovesse passare la me lo metto io si sente una me sembra un xilofono mi metto un microfono sembra un xilofono tipo con tipo sembra mezza musica giapponese con oh no bello è la versione di cosa giapponese anche questa ci sta ci sta a mettere anche questa ecco no dove c'è saldata e no oh cazzarola no effettivamente non ci sta effettivamente oddio oddio è una missione grande a missione di attenzione oh guarda meno male dicevo lord tu devi mettere i miei panni cioè è difficile intendere le cose nel senso la fine l'ha messa vabbè anche dove c'è soldato ancora ragazzi per mettervi nei miei panni secondo me dovete aspettare ancora secondo me un 5-6 mesi per capire la faccenda secondo me tra 5-6 mesi torneremo con un tipo di streaming che dico io capirete la faccenda e poi vi dirò ragazzi vi ricordate quei mesi in cui giocavo con bullet rocket ecco immaginate immaginate un po' immaginate io lo sa già di cosa sto parlando vero? eh sì oh oh perché purtroppo voi mi conoscete soltanto per questo puttana oh la merda questo puttana mi conoscete? questa puttana? grazie ma oggi le prostitute in questa streaming io sono ben accette ve lo dico in caso eh sì ah se volete prostituirvi adesso non è che prima non le lavate vi supporteremo ma cosa accadrà tra 5-6 mesi? perché ho detto i miei quelli che sono qua non ci conoscono ancora per ci conoscono soltanto per certi giochi comunque e non per altri quindi non non possono capirlo mi piace quando ti distruggono io ah ma altri giochini interessanti giochini in cui tu proprio non ne farai parte quindi proprio è una io te la passo eh occhio passa non è un passaggio quello perché l'ha toccata quel tizio se no era un passaggio era un po' stavo parcheggiando all'ipercoppe ti dico occhio pensavo che all'ultima sia il giochino del golf oh mamma attenzione messi è arrivato deve dribblare anche ball cazzo vedi poi non dite io non dico cavolate ragazzi è vero deve dribblare anche ball oh mamma ball stai facendo non devi che cazzo ball sei ratificato no guarda io non capisco veramente ragazzi non c'è io dopo io dopo adesso mi mi muore questa partita così mi riposo e mi mostro il ragionamento che fa bolle io ora vi mostro il ragionamento che fa bolle vi mostro il mostro il mostro il mostro il ragionamento che fa bolle quanto bello il cervello non ragiona più divento dislessico praticamente no ho sbagliato c'è la testa di minchia vedi vedi stare con gli zoppi impari a zoppicare ma hai detto schifoso io non ho nessun salva nessuno con me io lo sai neanche te stesso soprattutto me stesso ragazzi ho iniziato insaccando me sono voi perché sono entrato così esperto no ecco che cazzo è sta parola te l'avevi presa io come pensavi che fosse ferma io come ti giuro l'ho vista l'ultima strana poi hai detto ma si sta muovendo abbastanza in fretta ma che si c'è quella che si vede le palle ferme che si muovono dopo mi doveva la roba che sto sudando è bollita anche a me ragazzi è bollita anche a me comunque la cosa importante è che voi non mi conoscete ancora per bene come personaggio vi mi conoscete per streaming di bei giochini rovet league darksus persona final fantasy dove sono una persona normale non mi avete ancora visto nel mio vero io capito ecco esatto rio ne sa qualcosa oddio vabbè e voi immaginate me che gioco su sto gioco è come dire non lo so è mi sento presentaci tipo ciccio graziani con campioni e roba del genere praticamente che bello però non sono ciccio graziani immaginate tipo chi sono capello immaginate che sono tipo capello immaginate capello al posto di ciccio graziani a fare campioni peggio pure come sarebbe lì solo te se faccia no ma penso che non durerebbe ok no 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 tu immagina ho obbligato ho forzato a rimanere lì cosa succede ad un certo punto secondo me li uccide quello non so cosa succede io ho stato fatti per dirti che secondo me non dura una settimana e parte l'omicidio voi immaginate questo e ti immaginare si si Nicola ho sentito che ci sarà qualche cosa inerente a quello sono molto interessato qua ho fatto un miracolo intanto miracolo di Vangio tra sei mesi ciccio graziani andrà a allenare la Juve si trovate la Juve ma è rimasto per fangola assurda mamma mia ho visto lord le esecuzioni dei centurioni e dei cosi e dei centurione centurione interessante bellina mamma mia ragazzi manca in tre stazioni avete visto che siamo in pareggio e basta una minchiata eh bravo chiamala no 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 questo è buono tanto c'è Peter Parker dall'alto bolle mamma mia Peter Parker bolle sempre nei coglioni io stai calmo stai calmo no no eccoci non è tolta l'ultimo ma è andata fuori ma è andata fuori ma è andata meno male che è una sega questo con tutto il rispetto per le sega ovviamente non dovevi dire Peter Parker attenzione vai è buona è buona provaci io mi tolgo dei coglioni vai bolle ah per cazzo è tolbi bolle se vinci Peter Parker fermi tutti eh no 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 tanto non c'è la spazio ci sono buttati in 20 ci sono buttati oddio anche lord ha fatto 100 oggi i dadi cazzo eh perché ci sono i dadi caldi bolle sei sempre in mezzo ho le palle ti puoi togliere ma ste palle sono messi io immagino i miei coglioni tipo con la faccia incazzatissima tutti i rossi basta che succede rio tira la stecca buona buona ti vai 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 prosegui va bene va bene così va benissimo mamma ragazzi guarda che palle del minchia che double oh cristo devi toglierla per forza ma non male non male che sono scarsi questi eh oddio perché mi vedo sotto la palla non capisco se prenderla o meno e ho paura Peter Parker ma che cosa finalmente 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 bravo ball oh mio dio la testa questo è questo è Peter Parker eh allora tu dovete dare tante pacche sulle spalle ti sei dati continuosi ragazzi pacche sulle spalle per tutti eh ciccio graziani contro gulo no no dovete immaginare capello al posto di piccio graziani e fare campioni immaginate in panchina cosa fa come diceva marianna gane sono tornato platino 2 io vorrei questa prossima volta metto il cappello che quando tipo sbaglia ball prendo il cappello lo mangio lo mangio poi lo spacco per terra cazzo lo si cava di brutto era bellissimo dopo mi devo riguardare io me lo guardo io me lo guardo spesso è troppo bello marianna gane facciamo un montaggio di ciccio graziani con le mischiate di rocket facciamo lo faccio lo faccio lo faccio io faccio io che poi c'era una scena stupenda ma no come prima un cazzo perché ero diamante ritardato mentale infatti aveva interpellato me è bellissimo quando l'offesero tipo dal dietro dalla rete offese qualcuno e ancora si incazzò con una iena col pubblico sei un disonore sei il disonore della campione del mondo una mazza eccolo stai incazzato mannaggia le vostre mamme mannaggia le vostre mamme no ma devi fare un po' di vornese rio secondo me un po' di vornese vabbè mannaggia le vostre mamme dice io fai sentire la mia cazzo la vengi devi ripassarmela lord nel caso io la passo su su cosi la passo su terra io non voglio qualche sulle spalle voglio la rivincita valchiria vis valchiria ma lord quindi è un tuo grande compagno di avventure di for honor praticamente rio e vuole proseguire l'avventura anche su tecne per questo ma io ti avviso lord la valchiria l'ho portata un'attacca più sopra perché non ce la faccio più alle lamerate dei cavalieri è un'attacca più sopra intanto sì se prima non facevo una determinata mossa adesso la faccio praticamente sempre perché mi sono roti i coglioni quindi hai lamerato ancora di più hai fatto pay to win pay to win rio esatto pay to win ragazzi è un po' come rocket league contro pay to lose praticamente ragazzi voglio vedere l'utilità di bolle in difesa è l'utilità di un tricheco presenta un tricheco ah non dice no il tricheco no perché il tricheco è grosso magari la para pure a caso no 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 è un po' come airstone alla fine è diventato pay to win che cosa c'entra non era già pay to win ma infatti ma a me si come si però adesso è peggio magari quello si ricordati non c'è mai non c'è mai il peggio oh mamma non c'è limite al peggio non c'è fine non c'è limite al peggio il peggio è sempre una linea all'infinito linea infinita il peggio lascia la fin no ero io volevo rinviarla volevo rinviarla senti di forza e la rinviiamo bene quando vengo spinto ormai è bolle va benissimo va benissimo tanto ma anche tipo tipo sono in strada che cammino c'è molta gente vengo spinto bolle che cazzo bravo fai benissimo perché bolle è in debito di inzaccate ma come di così tante non bastano non bastano perché il problema è che io in mezzo di inzaccate non posso picchiarlo senza cosa era senza portiere da loro però ormai quando hanno fatto i pirati oh mamma i pirati i pirati dei caraibi ah poi bolle ragazzi non parla mai dopo un'ora dice una frase e vi lascio intendere il livello della frase come puoi essere vai rio te l'ho passata molto piano non mi dire che ti sei spaventato perché ho tirato molto piano paura io spaventato sempre potevi alzarla quel pallone lo alzavi e me lo passavi basta che più di x x ma anche ci provi no c'è bolle qua tranquilli è tutto sotto controllo peter parker vabbè ormai sentovi me guai sentovi me guai vabbè boh stai male è potente non c'entra nulla non c'entra non c'è Marco non ha senso se lo dici vabbè oh mamma se me la passa sono contento invece no ragazzi siamo 0 a 0 basta no rio mi raccomando mamma ti butti all'ultimo secondo ti butti si perché mi faccio mi faccio stringere le chiappe e la prendi tipo con un frame della macchina invisibile sai quei frame invisibili che non sono all'occhio ma non li vedi no cazzo no eri in corsa io ero buttata mia vaffanculo invece i frame non li becco io io calcolo i frame dalla macchina calcolo ricordati che la gif quella del calcolo mentale occhio è sempre presente ok non fa nulla questo non fa niente non fa niente dove sono gli altri vabbè no 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 mi ha rubato qualcuno nell'angolo si sa chi di sicuro bolle guarda no 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 mi sa che bolle 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 tanto tranquillo sei in debito te l'ho detto mamma non la piglio tranquillo tranquillo te la tiro a destra come hai fatto a non pigliarla questa perché potrà tirarla soltanto là c'hai fatto il giro là sono uscito troppo presto sono uscito pensavo che non ci arrivava no ma sei uscito di lato se uscivi diritto per dritto la prendevi sei uscito tipo facendo la curva vengono cosa tirarla da sconto dritta tanto c'è verlord che parla di roba di di foronori non ne capisco assolutamente non è possibile non è possibile non l'ho toccata no ragazzi due gol in un secondo che è successo guardate bolle che vaga a caso a caso nel caso guarda sembra sembra ma nemmeno i bot si ma io guardo bolle guardo ragazzi nemmeno i bot io ho giocato con i bot all'inizio del gioco proprio all'inizio inizio nemmeno i bot vanno così di merda nemmeno i bot è incredibile però sto assicurando ancora sulla piglia oh mamma mi smacca la bolle ti togli dai coglioni invece la rio la rio era purtroppo va bene va bene che bolle va bene tanto facendo merda è sempre volta mamma mia ma che bolle ma se ti sta zitto che sei che se avessimo un bot in squadra sarebbe meglio no io sto facendo merda facendo merda qua signori le sto missando tutte hai fatto torrete ancora bolle ma bolle ma devi cularti prenditi qualcosa hai fatto un'altra volta torrete hai fatto torrete di nuovo hai fatto eh si di nuovo torrete va bene lì sarebbe entrata comunque ma non hai detto ma fra le due cose lasciogliela prendere al 100% la mette torrete io l'ho fatta perdere vero? no ha fatto torrete quello ha fatto io non ci sono me non ci vedo ma che l'avrebbe presa guarda che a volte la missano gli avversari oh no mica non la riesco a vedere ragazzi tranquillo tranquillo assurdo tranquillo non sei l'unico mi sai che cazzo succede? io non c'ho sempre il no boost perché c'è un la vedo sempre in ritardo c'è un maledetto che mi ruba sempre i boost dio santo speriamo io ti ho detto per questo stai fermo boll che sei un danno me sto sentendo male io veramente sto sentendo male io non ne voglio più fare stimi di roba boll fai sei una piaga te l'ho detto ma non mi entra fai il pallone meno meno per po' donna santa che merda di gioco sto cominciando ad odiarlo sto cominciando ad odiarlo ma non per il gioco Ginkazama Ginkazama eccolo ma vedi non ti fa allora fa cacare fa cacare il cazzo proprio lo dico così fa cacare il cazzo è un danno piaga una merda tutti gli aggettivi più schifosi poi dopo dice un cazzo dopo un'ora dice Ginkazama David Jean Elston niente praticamente io aspetto sono Tekken poi io aspetto pure no io dovrei vedere un pochettino vorrei fare un sombrano guardami quanto ci mette a vendere il gioco guarda se posso il giorno dopo il giorno dopo dove basto di colpi proprio non lo faccio vivere tipo Rio occhio occhio no me l'ho tirata molto dentro questa però eh me l'ho tirata molto questa eh e poi rire guardalo cioè no errore mio bella spazzata direi boh il più lo quace dice Rea su non sento più Benji Benji ti ho mandato la canzone della zucchina se la vuoi ascoltare ce l'hai su telegram me l'ha passata Lord è una canzone che può darti tanta gioia non ti vuole un cazzo nessuno nemmeno gratis questo sentendo male però basta nessuno nessuno la vuole oddio è già in climateche evidentemente fede il caro bolsi per questo non sta rendendo al rocket è vero sta facendo gli elettrici sul pad sta facendo un'altra dai dai anche ancora un pochino manca possiamo ancora recuperare qualcosa perché ne dici mamma mia comunque Tekken io direi che ti divertiremo perché voi picchierete si si divertirà tutti insieme senza ti insegneremo un pochettino quello che è senza gente che si incazzerà io mi devo togliere la maglia un'altra mi devo togliere forza questo sentendo male sono un caldo bestia oddio io sono anche a finestra aperta che sai i miei vicini che stanno pensando oggi oddio mica posso andare di casa in casa dire ai miei vicini guardate che sto streamando se sentite roba strana pensate ma anche io normale cioè li ascelle coi baffi ormai perché coi baffi così non lo so hai presente quando ti bagni i baffi che bevi ecco la stessa moto quindi con i baffi aiutami aiuto chiamate un esorcista vediamo in diretta streaming la testa di Benji che fa il 360 fa non scoppa anche ovviamente non scoppe di merda quelle schifo di questi giochi del cazzo i ragazzi dovrebbero andare a studiare e non giocare a questi giochi di merda è vero è vero è vero è vero i giochi maledetti videogiochi schifosi sti ragazzi moderni schifosi ma andate uscite un po' andate a giocare fuori maledetti pezzi di merda nerd del caldo brutti nerd strada estateci in strada che passa un tir qualcosa ma io se sento questa musica guarda la sentono tutti lo sappilo si va bene va bene bellissima è un must anche quella del streaming di Forono no veramente sta roba devo vedere è la canzone dell'aggiuntino ormai grande hit dell'estate no guarda mi è bastato guarda mi è bastato mi è bastato sai se vorrei vedermi per ripicca quello lì delle uova quello di Pasqua com'è che era con la sardo di carbonia mamma mia quella è una merda totale bellissimo quello per favore fa il verso della gallina quello è bellissimo di effetti no 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 cos'è sta roba dai chiedi al lord cos'è l'ha passata lui maledetti ma vaffan brodo oh mamma guarda che c'ho voglio non è possibile io spero che ci arrivino i copyright ci tolgono il canale basta addio ragazzi niente più streaming fine io non arrivo io non arrivo a 40 anni ragazzi secondo me non si arriva domani io non si arrivo non si arriva domani i neri che collassano si suicidano non lo so comunque danny se te quello è trash danny devi sentire il tizio quello di carbonia delle uova e del coco coco quello è assurdo un giorno lo faremo assolutamente però guarda io che è lasciando perdere guarda che non era fatta male quella canzone cioè è una merda non era fatta malissima rispetto ad altre bella 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 è una produzione dietro ragazzi guarda ragazzi quando Benji è in camicia sono dolori si vince questa 200 boh se ti stai de fianco boh lo vuoi capire quando c'è Rio in porta addio santo non ci devi andare anche te lo vuoi aprire proprio ti metti nel secondo palo boh vai è un occhio di ritrati a destra bravo è un 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 cioè guarda che guarda che gliela passa agli altri incredibile no mi raccomando vabbè ok devi tirare perché non c'è tutti cavolo che cagata che ho fatto fatto la merda li potete tirare molto meglio di così è fatto pazienza pazienza portanto non si piglia gol almeno mamma ho tirato una stecca qui se la ricordano fino a domani mica o gli è andata precisa sulla capota però sul culo anche nel rimbalzo che ha fatto vai tira ma che lo si ferma ma speriamo ti fermi noi in strada che carabinieri santa se te lo tolgo più mario perché non ci arrivava ho visto ho visto ho visto non c'è più nos non c'è più nos intanto nord ricorda gli scleridi for honor e delle 4 di mattina che si urlava actimelizzazione alle 4 di mattina prendete prendete l'actimel non capisco si beh certo occhio eh non ci posso che che come si fa come si fa a prendere il rimbalzo sulla macchina ero pure questo è questo è il gollonzo questo ma direi gol mio dio santo che cacchio va bene è solo uno 3 minuti e 30 si può fare io ti ricordo che devi passare le robe per i best off di for honor in caso in caso si è fatto robe strane si è vero si si ne ho un paio ne ho da passare allora passamele quando puoi quando puoi prima possibile meglio è così non te le richiedo guarda no non la prendo che se non faccio che voglio io sai qual è il problema sai qual è il problema che boll si mette in porta in punti interessanti che dovrebbe prenderla oddio bene uno a uno dai anche un un coso un come si chiama un assist non voluto ma riuscito direi bene guarda quando si mette in porta ci sono dei palloni che dovrebbe prendere lui lui non li prende te la prendi nel culo però e quello è fatto ha visto ha notato ma anche forte poi non piano lo dice piano oh piglia sto pallone piglia no l'ha preso veramente l'ha preso veramente tu l'hai sfidato gli hai detto ok è meglio così quando vincerò sarà più bello devo dirgli non pigliarla non la pigliarla no 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 mi piace a me il gioco duro mi piace oh cristo qua prevedo una torre oh hai fatto riuscito la fai a rinviarla ecco c'è sempre una piaga la piaga non la prendo non la posso prendere ero girato dall'altra parte non posso farci nulla cacchio però non ci dovete andare in due non ci devi andare boll non so rio te l'ho chiesto anche a te di prenderla non potevo far nulla boll non vuoi capire che no senti boll sei calzo perso boll non giocare stai fermo stai fermo fai qualcos'altro no mi sta laggando che cazzo succede che cazzo sta succedendo ragazzi qua mi ha fatto andare dritto non ho potuto proprio non ho potuto proprio muovere la macchina che cazzo è successo qua mi ha laggato sul serio che cazzo era mi sta arrabbiando per te secondo te no confermo che è laggato ero fermo non so che cosa sia successo lì ragazzi mi ha fatto andare dritto io non riuscivo a muovere la macchina ero inchiodato come merda la presa boll guarda ci sperirei che tu rimanessi inchiodato e non ti muovi più per sempre guarda lasciatela lasciatela crocifisso tipo forello ma cosa forello forello dai oh portavuota portavuota oh dai dai che si può fare sono cripto benvenuto mannaggia lui l'hai detto tipo 10 volte oggi basta sta cacata cripto mamma bentornato è una parola grossa mal tornato cioè nel senso io ti sconsiglio di uscire via finché sei in tempo mal tornato ma no ma no salvatevi salvatevi guarda sono un momento camicia fra poco diventa il momento conottiere quando arriva il momento conottiere vi sconsiglio di boll crucifisso in salamenza attenzione dopo la mezzanotte boll di mi dovo la mezzanotte madonna santa te la mezzanotte veramente rion boll di toglierti dai coglioni non so quante volte te lo devo dire fino a oggi veramente dei toglierti del proprio rion vedi boll in porta fai una bella cosa va a tenere via perché tanto lì non se ne accogge quello fa bene quello fa bene proprio per tranquillo ok purtroppo non ho più un no spendo quello lì davanti non è male però vai jesus io ti voglio cantare jessica ti amo potrei farlo però le stesse visualizzazioni di cosa di come si chiama di canozza lì di canozza perché sono sempre in no boost dio santo sto gioco di merda io non sono essere poi stanco anche insaccato ormai oh oh finalmente ho un passaggio interessante posso mettere solo lì dai tiramela su tiramela su oh finalmente dai non è male no infatti però la c'è ne sono 20 in porta non conveniva tirare come veniva di metterla nel le bolle se la manchi si prende i gol ecco non si è preso il gol perché quello il mongolo l'ha tirato dalla retromarcia in mezzo sono tutti in porta questi bisogna fare gol ragazzi tirate una stecca sono tutti in porta tirate una stecca a questi qui poi tiro io tirate una stecca stecche stecche auto scontro auto scontro time bravo rio bravissimo vai tira tira in porta merda io ho messo 20 parole da portavuoto sto mettendo no aboli toliti dai coglioni ah peccato peccato canazzo io mi ricordavo il nome nord ogni tanto ecstaz ecstaz fury ecstaz fury benvenuto benvenuto e ti ringrazio per i follow ecstaz fury ecstaz fury betta lo devo leggere penso di averlo detto bene ecstaz fury ho detto bene grazie per il follow ragazzo sembro dislessico ma non è così grazie 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 per il follow ragazzo mamma mia che partita anche questa orripilante dobbiamo vincere almeno l'ultima veramente se qualcosa di indescrivibile tanto l'ordi si becca intenzione caps lock non sai che cosa ha combinato di nuovo no ma sto caps io questo caps lock lo beccano in parecchie eh tutto lei ha alzato eppure l'ho alzato comunque ho tolto il time out al lord purello dopo rimetto mano perché a sto punto non capisco lascia 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 che questa eh purtroppo pesa un po' male troppo di fretta tira tira che porta vuota non ho visto tiri ragazzi come mai io non commento più per quelli che sono di qua aspettarsi io che rosico mi chiuso ormai di commentare oh guarda intanto gol intanto intanto gol io vorrei avere di nuovo il tizio che diceva andate mid solo da mettere dentro vabbè ragazzi però questo lo conosce solo bull purtroppo bull lo imito bene vado vado mia mia sì 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 ecco io secondo me quello lì ti avrebbe bloccato all'infinito e mi sembra che quello il tizio lì una volta ti sentiva a me che ti insaccavo diceva ma poverino ma poverino ma questo qui vedi appena poi che è successo devi metterti apposto il microfono del party che è un po' andato ma il vostro perché con gli altri lo sentono mi sa che mi è caduto vabbè ragazzi non è un problema tanto ho fatto un passaggio che era ragazzi bull ma speriamo che ti venga le morrovi ti spero io tanto che la palla è su mi rimetto il coso è perché adesso ho la camicia quindi mi cade ho la camicia cadente vai 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 avanti oddio no tranquillo ci sono ci sono mamma mamma questo è la piglia è sicuro no 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 non posso oh in mezzo in mezzo via via in mezzo vai e invece no allora tutti zitti allora l'ho vista allora con la palla lì aveva fatto gol se stava fermo si fermava faceva avanti xx faceva destra xx faceva sinistra xx in tutti i modi la metteva dentro soltanto in uno non la metteva sapete qual è quell'uno quello che ha fatto lui praticamente fare indietro indietro quello lì non lo prendeva e ha fatto quello bull sei il il praticamente il re della merda sai quando uno è forte guarda quello lì è forte perché uno c'è la situazione difficile riesce ci sono magari tipo una situazione in cui tipo c'è uno su cinque che riesce a vince lui è talmente bravo che riesce a capire quell'uno su cinque risolve la situazione te sei quello che su cinque quattro sono buone per vincere scegli proprio l'ultima o addirittura alcune volte ti inventi tipo cento per cento ce la fai ti inventi quella incredibile che praticamente non fai nulla sbagli indescrivibile la faccenda tanto io se riesco a fare un bel gollino adesso aspetta eh vediamo se questo ci casca ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho rimettiti no l'ha presa bene quello l'ha presa bene brava re cambiamo argomento qualsiasi cosa se no è un casino filmi tutti vai ho fatto ho fatto un tamponamento preventivato in modo tale che potete toglierla meno che non ci sia uno che vuole fare la tua rete ma ragazzi siete usciti in 20 occhio che è pericolosa la faccenda la vedo parola la vedo tu non devi vedere niente qual è il fatto non puoi vabbè non puoi devi vedere niente boll non devi andare in porta devi pressare boll non metterti in porta con me vaffanculo boffa boll tu questa qui non la vuoi capire la voglio spiegare la voglio spiegare la voglio spiegare perché io penso io penso prendo un bambino di 4 anni di 3 anni oppure prendo tipo prendo un barbone disagiato qua a prato non sto scherzando è anche famoso non sei partito porca di quella puttana non sto scherzando è famoso qui a prato il barbone cinese ecco un altro che si piglia e non poto far nulla è il famoso il barbone cinese è un barbone alcolizzato con le unghie lunghe scalzo che va giro per prato la trovi in mezzo sotto i punti non sto scherzando quello se gli spiego questa cosa e gli insegno a giocare a rocket gioca meglio di bolle anche dalcolizzato è incredibile è incredibile adesso vi dico questo ragionamento io vi do questo ragionamento io ma poi è bello che voi immaginate ma benji sono glielo spieghi oppure benji ma dio santo ma boll giocato gioca messo gioco adesso è stallato no allora io gli ho spiegato un miliardo di volte e lui gioca questo gioco da un casino di tempo quindi proprio è ancora peggio quello che fa incazzare quello che fa incazzare io non mi incavolo ci sono testimoni ovunque chiedete a chiunque mi conosca che gioca con me io non ho mai insaccato nessuno delle prime armi mai testimoni oculari al massimo al massimo al massimo sono insaccate per ridere ma lo ben capisce ma stiamo perdendo veramente questa partita dominata io non ho parole dai io tirala su no no merda non l'ho presa con il cofano per tirarla su bene probabilmente quello potrei tirare adesso ragazzi l'unico modo è che cercate di fare un bel rinvio la buttate su il problema è che vi rubate tutti i nostri dietro per forza prendere il nostri toglietela se potete tiratemi la su oh ok non l'ha tirata il problema che manca poco il problema è quello bollo non vagare in giro mi raccomando tira e mamma i paraccheggi degli ipercop quelli donna santa ti datemela a me eh puttana della puttana proprio ma rimazzoppa fate tirate una stecca al portiere fate una cosa utile perché tanto fate casino fate in due vicini tirate una stecca al portiere io mi ho fatto prima fate una stecca al portiere ignora tutto ignora tutto tira la sta andando eh no eh troppo questo è partito su ma fai è salito subito ma mi danno le stecche a me che devo fà no chi è che mi ha tirato la stecca no io no eh non ci sono io dire no che cacchio io meno male che non io meno male che non ho oggetti contundenti qua tipo pugnali o altro se no mi sarei ammazzato e io devo farmi io devo farmi questo disegno dove spiegarvi questa cosa qui allora questo è quiz di logica cioè cioè è difficile come cazzo faccio a spiegarlo è un casino ha disegno di qualche di qualche disegno ci vorrebbe disegnato ci vuole un macello ci vuole lo schema ci vuole è un macello voi immaginate allora che immaginate immaginate questo immaginate tipo tipo calcetto o calcio ma non so gli esempi più facili si possono fare da immaginate questo facciamo nel caso peggiore di tutti che comunque capita anche non c'è il portavota il portiere ha fatto una minchiata come è uscito sopra magari per tanti motivi è uscito sopra quindi portavota il portiere era volante ok ok immaginate questo quindi c'è la palla che sta praticamente andando piano piano non troppo velocemente verso la porta la propria porta quindi cosa succede il portiere deve tornare indietro per cercare di prenderla no quiz cosa fate se siete il portiere c'è la palla che sta vagando senza che qualcuno la sta prendendo al momento tipo lui nella tre quarti avversaria la palla la vede che è già al centro campo e piano piano sta andando verso la parte quindi a quel croce correndo ci arriva sulla tre quarti della propria metà campo no ci siamo siete capito lui corre 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 ok se l'avete la palla accanto preferite il portiere vabbè se non do perdere che il portiere può essere anche un difensore non importa che sia proprio il portiere non immaginate che ci ha portavuota però è preferibile stoppare il pallone prendere il pallone accanto oppure lasciare il pallone vagare e andare a proprio occhi fissi senza anche girarsi dietro davanti alla porta poi mettersi in porta girarsi ma non mai vedere che ormai che l'adversario che ha preso il pallone ha già tirato la fucilata da prendersi i gol qual è delle due migliore? qual è delle due migliore? correre cioè praticamente immaginate tipo la palla la palla che baga così che sopra la palla e poi va verso la porta cioè che poi basta prenderla buttava di lato cioè questo ragionamento cioè io dico nemmeno i paragappati i cinesi i barbone lo avrebbe capito cioè ma lo sto scherzando non lo fa non lo fa notatelo io non noto guarda come giocano come stanno giocando orie e bole io lo guardo dovete spiegarmi se c'è possibile notare del genere spiegarmi ah e l'ora niente è finita e l'ora mi viene a staccare rocket finita guarda e l'ora e l'ora sì sì cioè bole sei tu serio ancora adesso fai questi errori qui è incredibile è incredibile detto così è meglio prenderla è così sempre perché bole cioè poi e poi mi sentite ce l'aggravante perché importa c'è già Rio quindi ma c'è l'aggravante che la porta non è vuota che c'è Rio quindi non dovrebbe manco andare in porta a mettercene due potrebbe soltanto prendere la palla e toglierla ma lei non fa mai pressing non ha mai copertura di palla e nemmeno la toglie prende e va in porta bole io te lo dico cioè veramente basta sto gioco e non fa per te ma ti ho detto prova con te che tranquillo ancora basta aspetta fammi vedere quante settimane ancora ci rinuncio ho rinunciato basta rinuncio bole deve resistere ancora due o tre settimane no io devo resistere non bole anche tu ovviamente anche tu devi resistere io secondo me bole potrebbe dare il meglio di sé il giochino del golf giochino del golf secondo me darà il meglio di sé quello è il gioco giusto per lui mamma mia ma io ma nemmeno i barbone ci riese qui nemmeno nemmeno i barbone nemmeno i barbone nemmeno i barbone ragazzi se ne pensate se ne pensate io non ho parole sul serio è veramente qualcosa di io penso che vado a versare sale da un'altra parte adesso voglio mi dare un'opinione forse dimmi qualcosa la mia opinione è che purtroppo a quanto pare bole non è abituato a giocare in tre con una persona che difende la porta per così dire difende la porta adesso è una parola grossa diciamo che deve abituarsi un pochino deve abituarsi un pochino a giocare in tre con uno che come il sottoscritto rimane fissi in porta un bole ha giocato solo in tre sempre eh sì ma magari gioca lui in porta ma perché lo sta difendendo perché cerco di entrare guarda è più facile difendere un assassino che difende bole c'è più c'è c'è dio santo veramente esagerato adesso mamma mia è un assassino del buon gusto lui del non so come richiararlo ma ora che si fa segoni non lo so segoni a domani adesso lord ovviamente lord ricordate ci sono sempre le notifiche su facebook e descrivo sempre la giornata come si caratterizza io purtroppo ragazzi se io facessi più di due ore di su sto gioco mi ritrovate le prossime streaming le prossime streaming le faccio la terapia intensiva al reparto di alla neuro dell'ospedale vi faccio gli streaming vi faccio lì perché mi vanno a ricoverare mi vanno chiamano l'ambulanza chiamano qua mi vado in epilessia forzata con spasmi muscolari e qualcosa di indicibile praticamente che meraviglia si va su persona di passarsi si va su persona adesso si è vero si si mi rimando boll ma ci sei ancora di qualcosa perché veramente merda tutto tutti i punti di vista merda sciogliti sciogliti tutto dialogo gameplay in compagnia sia io che boll no rio bravo rio bravo vai rio solo bravo sempre rio bravo dai oggi merda totale ma come oggi cosa oggi ma come sempre 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 ogni dì ogni dì che si accende questo come mai così merda come mai ma è una vergogna cioè spiegaci si 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 no è una vergogna non mi sei convinto si si ma si aspetta Tekken con ansia e lì si sarà da divertirsi di più io mi immagino solamente benji su Tekken in quanto io ragazzi Tekken Tekken qualcuno di voi chiamerà veramente l'ambulanza della neuro perché sono tipo il maniaco represso di rabbia che proprio che godrà tipo inferirà sul cadavere che farà proprio proprio botte proprio con una furia con l'ira proprio sai proprio la rabbia rabbia proprio cattiveria proprio io io vi sconsiglio di vedermi delle streaming sai quando dice le cose sono violente lei dice violenza vera proprio violenza vera appena appena sei dal negoziante scarta subito il gioco fatti dare una play allenati subito perché questo non ti lascia neanche imparare per dire due mostri niente proprio ma saranno tipo spezzate prese volate in aria giaggle mosse finali tutto muro fisso tutto non vivi non vivi pugnetti all'infinito one hit one hit da una parte tutta la boom 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 manco di difendi proprio botte e basta proprio devi arrivare che è l'unico modo che hai per cercare di qualcosa è cominciare a urlare così l'unico modo è quello povero povero boom vedremo cosa succederà vedremo vedremo poi ci si diverte su crash tanto su crash no perché non ci puoi giocare non ti preoccupare massimo l'unico gioco che puoi competere un minimo è il giochino del golf te l'ho detto devi puntare tutto su quello allenati per bene anche su quello là perché è l'unica alternativa tra l'altro fatemi vedere un pochettino ma poi ragazzi com'è andata la streaming oggi non ti ho detto niente io ho usato abbastanza i kbit l'ho alzati di mille praticamente com'è andata 4.500 siamo andati ho fatto 4.000 fps no la prima volta la prima volta che ho fatto così prima volta che ho provato sembra che abbia detto quindi si può provare anche 5.000 allora anche 5.000 anche 5.000 potremmo anche arrivare a 5.000 ok wow 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 poi dopo mi tolgo le cuffie mi riposo le orecchie il cervello si sarà da niente ovviamente certo è andata bene dice meno male no ho detto perché ho aumentato la qualità dovrebbe essere praticamente rocket essendo diversamente magari da metal gear soprattutto da giochi che sono a 30 fps tutti quelli altri che si fanno tipo persona che non siete assolutamente è più propenso un po' a scubettare per questa faccenda per cui quando metto 60 fps e 4.500 5.000 dovrebbe dare meno fastidio quando facciamo tipo cambi di telecamera e repentini spostamenti dovrebbe essere più definita adesso la faccenda all'inizio con uno schifo come sempre ma ora è stabile come all'inizio uno schifo ma usate sette le qualità come all'inizio uno schifo guardate che quando arrivate all'inizio Twitch ci mette un po' a capire qual è la vostra banda non vi dico che ci si arrabbia il rio ma spesso ci capitano persone che ci vengono a volte in streaming fanno no no non si vede niente non si vede niente e vanno via ma lo mettono di selettore ragazzi selettore selettore perché purtroppo quello di Twitch a volte non lo fai in automatico si non è come quello di Youtube ragazzi quello di Twitch è un po' devono migliorarlo proprio quello di Twitch devono migliorarlo è vero secondo me già praticamente una volta che entri dentro il sito già fare una specie di contatore della banda se non me lo fa Youtube questa roba si ma verso le 21.30 la mia connessione è più lenta si si ma magari quello lo ben capisco basta che usate selettore verso questo quando poi va meglio l'ho provato ad alzare ovviamente tanto intanto ho provato ad alzarlo quello lo ricordo Tarielle me lo ricordo perfettamente quando praticamente avevamo problemi col selettore per colpa dei Power Ranger che entravi non riuscivi a vedere non avevamo mai selettore quindi dovevi tornare per forza dopo quindi con le app non c'è selettore si che c'è selettore con le app si che c'è selettore ha voglia certo che c'è selettore ci mancherebbe che non c'è nelle app ormai vanno tutto con le app praticamente se noi guardano più twitch con le app che con il computer tra poco quindi sono fatte apposta c'è tutto nelle app sono sicurissimo lo ce l'ho sia su io ce l'ho sia su su tablet ce l'ho sul cellulare quindi c'è sicuro è l'ingranaggio in basso a destra dovrebbe essere sul tablet dice non c'è mi sembra impossibile sembra impossibile c'è sicuro guarda meglio dovrebbe essere l'ingranaggio con tutti i contatori mi confermi dice anche fede che quella l'app sull'iPad la grande fede ha l'iPad pronto cioè per tutte ragazzi non avrebbe senso che ce l'ha il pc il telefono il tablet no perché comunque sia l'app è la stessa su per giù non dovrebbe cambiare niente probabilmente bisogna trovarla un pochettino chissà dove sta boi dovrebbe essere in basso a destra no io su cellulare sono in basso a destra poi non lo so come sul tablet in caso glielo dirà a fede visto che ha lei il tablet potrebbe dirglielo nel caso va bene ragazzi vi aspetto fra poco il tempo di rimettimi un attimo a posto io devo cambiare il titolo devo fare la notifica su facebook le solite cose ci metto un pochino e poi parto rio vi saluta e di qualcosa ciao ciao belli dimmi un po' ah così beh niente io adesso vado a farmi un po' di sale per un'oretta e poi dopo mi do a dei progettini che abbiamo per il canale mi do ragazzi si continua sempre non c'è un attimo di pausa tutto per migliorarci boll cosa ti stai facendo migliorarci sempre butto smasher cosa stai facendo stai piando le stecche no non sono io non sono io è rio sono io sono io insaccata anche adesso fino all'ultimo non ha pietà vai di sale boll vai fai un saluto a tuo finale forza ma niente vado a riprendere il mio cappio e ci si beca ma sto cappio e mi sa che ho gli fatto un lodo sbagliato oppure di ventesima mano perché si spacca vedi di metterlo a posto io ti consiglio fallo col fil di ferro quello di proprio bello no no con la macchina per la colazione mamma mia va bene va bene non l'hai vista con la scena vero si io l'ho vista ma è orribile il calcio a parte come è doppiata è doppiata malissimo ma fallo 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 no è bellissimo il doppiato ma non fa la colazione minchia bolve qualcosa di imbarazzante io vorrei vedere chi che ti prende come doppiaggio per qualcosa a me ti fanno doppiare i dinosauri 2 quello la di quella merda la te dai quello lì rio si quello quello che è doppiato questo ti spara addosso non fa la colazione mamma mi hai sbagliato anche le frasi bagliate pezzine ma com'è la frase giusta non me la ricordo non mi interessa guarda io sono questo bellissimo comunque è assurdo ma perché dici che è un brutto doppiaggio rio perché è orribile ma è quello classico di peter via ragazzi vi salutiamo vi salutiamo perché sono la roba risvolti lunghi via allora presto presto ciao ciao presto ciao belli ciao ciao